Buonasera a tutti, bentrovati al terzo dialogo di diritto amministrativo di quest'anno. Porto ovviamente i saluti di tutta la cattedra di diritto amministrativo e di colleghi che oggi per altri impegni didattici istituzionali non possono essere presenti, dalla professoressa Marchetti e anche al preside Cortese. Oggi abbiamo come ospiti il giudice del Tarbari Desirezzonno, l'avvocato Stefano Bigolaro del Foro di Padova, che mi aiuteranno ad analizzare una questione di particolare complessità che è quella dell'integrazione e della motivazione nel corso del giudizio. Credo che lo schema del nostro dialogo sia usualmente quello che vede un'introduzione generale ad opera del docente, quindi ad opera mia, cui farà seguito una trattazione del problema dal punto di vista del giudice, quindi da parte della dottoressa Zonno, per chiudere poi con una riflessione da parte dell'avvocato Bigolaro che ci rappresenterà la posizione ed il punto di vista dell'avvocato che difende poi nell'ambito del processo amministrativo tanto il privato che, soprattutto fuori Trento, l'amministrazione. Quindi, da questo punto di vista, dovremmo avere in qualche modo una visione globale e, come piacciono da alcuni, di realistica del fenomeno. Cercheremo di rispettare degli adeguati tempi per favorire eventualmente anche interventi, dibattiti o secondi giri di riflessione, come mi sembra sia proficuamente accaduto nelle ultime occasioni. Bene, detto questo, inizio io. Ed inizio io con una sorta di intervento introduttivo, mi sono anche dotato di moderne slides, un po' per vezzo, un po' per disperazione, perché l'argomento è veramente complicato, quindi non si deve perdere il filo. Inizio io introducendo il problema da un punto di vista generale, fra diritto sostanziale e diritto processuale. Quando noi ci avviciniamo al problema dell'integrazione e della motivazione in corso di giudizio, dobbiamo, a mio parere, avere chiaro il contesto problematico entro cui si colloca il fenomeno, che poi andrò ovviamente a sviluppare e ad approfondire. E nel contesto problematico, schematicamente, come è ovvio, si può sintetizzare, a mio parere, in cinque diverse prospettive, quindi da cinque diversi, ma connessi, punti di vista, che vedete elencati alle mie spalle, ma su cui posso diffondermi adesso. Il primo punto di vista, il primo profilo, il primo aspetto è chiaramente di diritto sostanziale. Noi parliamo di integrazione della motivazione, la motivazione è la motivazione dei provvedimenti amministrativi, la motivazione dei provvedimenti amministrativi, come tutti sappiamo, è un principio, ossia è un dovere stabilito in una norma di principio della legge 241 del 90, che connota quello che è lo statuto generale dell'azione amministrativa, che connota lo statuto generale dell'attività amministrativa con quella che è una forte connotazione garantistica. Tutti i provvedimenti devono essere motivati, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L'articolo 3 della legge 241 del 90 è una norma cardine ed una norma chiave per una concezione moderna, democratica, trasparente di pubblica amministrazione. Da questo punto di vista credo non si possa prescindere. Da questo punto di vista la stessa Corte Costituzionale, con due importanti ordinanze, ha ribadito come la motivazione disciplinata dell'articolo 3 sia un presidio fondamentale della legalità sostanziale dell'agire amministrativo e addirittura il baricentro attorno al quale ruota buona parte dell'azione amministrativa che si esprime attraverso provvedimenti. Esiste però un'altra prospettiva aggiuntiva, quella dei vizi del provvedimento amministrativo. E qui le cose si complicano. Perché l'articolo 21 Oczias della legge 241 del 90, che disciplina le conseguenze derivanti dalla violazione di norme dell'agire amministrativo e di principi, non stabilisce con chiarezza le conseguenze derivanti dal difetto, dall'insufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo. Ci torneremo, ma questo è un altro punto fondamentale. Se noi spostiamo la prospettiva con riferimento all'analisi dei vizi del provvedimento, ciò che poi forma oggetto di giudizio, vediamo che la situazione non è chiarissima. Perché non sono chiare le conseguenze derivanti dalla violazione dell'articolo 3 della legge 241 del 90. Di primo acchito potremmo dire che questa è una clamorosa, laddove sussista violazione di legge, è un clamoroso eccesso di potere, ma vi sono anche margini per affermare che il difetto di motivazione o l'insufficienza della motivazione, in certi casi, sia un vizio non invalidante. Vi lascio aperta la prospettiva perché poi ci torneremo. Terzo e quarto punto poi sono importantissimi rispetto a quello che andrò a dirvi fra qualche minuto. Se abbandoniamo i lidi del diritto amministrativo sostanziale e cominciamo ad analizzare il problema dal punto di vista del processo amministrativo di legittimità e quindi dal punto di vista delle parti privata e pubblica e aggiungerei del giudice la situazione si complica parecchio perché si tratta di capire e di analizzare e di comprendere come il difetto di motivazione o l'insufficienza della motivazione possa essere dedotta in giudizio quale vizio motivo. E quindi si tratta di capire e di porsi il problema della collocazione del difetto di motivazione all'interno dei ricorsi giurisdizionali. Ve lo dico perché, poi ci voglio tornare con più calma, raramente, se non mai a mia memoria, il difetto di motivazione è dedotto in giudizio in quanto tale e come, per così dire, una monade. Perché il difetto di motivazione è dedotto in giudizio e fa parte dei vizi motivi assieme a quelli che, tra le tizia mente, sono gli altri cosiddetti sintomi di eccesso di potere. Per cui mai il difetto di motivazione è da solo, sempre si accompagna a contestazioni dell'attività decisionale della pubblica amministrazione e quindi a critiche più ampie dell'interattività amministrativa. Il che, e questa è una specifica, diretta e piena attinenza con quello che andremo a vedere fra un po', anche dal punto di vista di chi difende l'amministrazione ha un qualche significato. Perché la parte resistente e il difensore della parte resistente potrebbe essere indotto ad affermare che il difetto di motivazione da solo considerato non è ragione sufficiente per affermare l'illegittimità dell'agire amministrativo. E questo perché, evidentemente, ci sono altri fattori sostanziali e materiali che consentono alle parti e poi al giudice di formarsi un convincimento tale per cui l'atto immotivato non è un atto contrario alla cornice normativa di riferimento. Quinto e ultimo punto, problematico perché questa è solo l'introduzione, quando facciamo questi ragionamenti stiamo portando il problema del difetto della motivazione all'interno della questione generale dell'oggetto del processo amministrativo di legittimità. E quindi ci stiamo chiedendo, indirettamente e surrettiziamente, che cosa debba fare il giudice? Quale sia il ruolo istituzionale del giudice? Cosa si chiede al giudice e cosa possa fare il giudice? Se il giudice è tenuto ad annullare l'atto in quanto immotivato perché siamo di fronte a una violazione di legge o comunque un eccesso di potere o il giudice deve fare qualcosa che va oltre il sindacato testuale della sufficienza, della motivazione del provvedimento amministrativo. Questo è lo sfondo, questa è la cornice problematica di riferimento. Si può approfondire il problema e si può cominciare ad entrare diciamo così nel cuore della nostra questione partendo dall'ultimo punto e quindi l'oggetto del giudizio, i rapporti fra le parti nella definizione dell'oggetto del giudizio, affrontando questa tematica in una ottica che io ho definito realistica. Laddove però il realismo di cui vi sto parlando non è il mio, cioè non è ovviamente unicamente il mio, ma è un realismo che troviamo descritto in maniera mirabile da Mario Nigro in un articolo del 76 quindi di 44 anni fa, Nigro è morto nell'89 in cui questo studioso si rivolgeva una platea di avvocati amministrativisti più o meno all'indomani della attivazione dei TAR chiedendo agli avvocati amministrativisti una sorta di salto di qualità nell'impostazione delle loro difese e chiedendo indirettamente però a tutte le parti coinvolte nella gestione del giudizio compresi i giudici una maggiore comprensione della complessità del fenomeno amministrativo e del processo amministrativo declinando quindi tutta la vicenda in quella che ho definito appunto una chiave realistica qual è questa chiave realistica? allora io chiaramente sto forzando l'esposizione per creare un po' di dibattito e di dialogo però il significato di Nigro della posizione di Nigro che non è solo di Nigro in realtà è un significato che va apprezzato appieno primo punto il processo amministrativo non è un processo all'atto cioè è una sorta di mistificazione di mitologia giuridica per dirla in altri termini l'idea per cui nel processo amministrativo di legittimità si o ci si debba limitare ad impugnare il provvedimento come supporto cartaceo materiale in realtà nell'ambito del processo amministrativo si dovrebbe o a volte si deve o è opportuno censurare l'intera attività amministrativa l'intero processo decisionale seguito dall'amministrazione nella implementazione nell'applicazione della norma e in questo contesto evidentemente capite subito che la contestazione del provvedimento in quanto caratterizzato da deficit testuali della motivazione ha un carattere meno centrale e meno rilevante di quanto si potrebbe pensare in termini astratti secondo punto di questa lettura realistica non solo non è credibile pensare che il processo abbia solo ad oggetto l'atto e la sua motivazione ma non conviene alla parte ricorrente concentrare le proprie censure sui difetti di motivazione del provvedimento amministrativo e la ragione è presto detta ed è presto chiara qui Nigro utilizza anche delle espressioni immaginifiche molto belle che vi risparmio ma che sono davvero significative il senso di questa di questa critica è quello per cui se io ottengo l'annullamento dell'atto immotivato l'amministrazione rideciderà motivando meglio quindi se io mi illudo questo qualunque avvocato lo sa qualunque giudice lo sa se io mi illudo di garantire al mio cliente salvo poi casi particolari una vera utilità attraverso l'annullamento dell'atto in quanto immotivato sbaglio perché in realtà questa è una vittoria di pirro una vittoria formale in tanto quanto il vero problema si scarica sul riesercizio del potere amministrativo e sulla conformazione della successiva azione amministrativa ora è acquisito il dato per cui il solo difetto di motivazione e quindi il solo annullamento per difetto di motivazione non ha una forte capacità conformativa della successiva attività dell'amministrazione e quindi è la stessa parte a non avere l'interesse materiale diciamo così a cristallizzare l'oggetto delle proprie censure su questi singoli passaggi certo può capitare ma questa è un'evenienza ed è un'evenienza di per sé non positiva perché dal punto di vista della difesa forse anche dal punto di vista dell'amministrazione della giurisdizione conviene allargare il più possibile l'oggetto del giudizio anche ai fini della conformazione della futura attività amministrativa terzo punto lo abbiamo detto le parti hanno un interesse ad allargare la cognizione del GA quarto punto delicatissimo questo è il più delicato di tutti nella lettura di Nigro ma non solo il processo amministrativo non solo non è un processo all'atto non uso apposta il concetto di giudizio sul rapporto perché lo trovo fuorviante ma il processo amministrativo è un processo che non mira tanto all'effetto costitutivo dato dalla eliminazione del provvedimento illegittimo il processo amministrativo secondo Nigro e secondo certe letture ha ad oggetto l'accertamento di relazioni sostanziali a mio parere di relazioni che non intercorrono tanto fra il privato e l'amministrazione ma fra la legge e l'amministrazione ma questo è un problema su cui possiamo anche non attardarci il dato fondamentale è che in questa ottica realistica io al giudice non chiedo di togliere di mezzo un provvedimento amministrativo che tanto l'amministrazione potrebbe riprodurre a seguito della sentenza ma chiedo al giudice scusate di accertare il modo attraverso cui l'amministrazione ha agito o non agito e in forza di questo accertamento far scaturire degli effetti conformativi che limitino la futura attività dell'amministrazione e auspicabilmente la orientino a mio favore ci si potrebbe chiedere che cosa centrano tutte queste premesse con l'integrazione della motivazione in corso di giudizio centrano tantissimo perché da queste osservazioni potremmo costruire una decina di anni di dialoghi di diritto amministrativo ma per quello che più ci interessa in un contesto come quello che vi ho appena descritto l'integrazione della motivazione ha una collocazione sistematica molto particolare un'interpretazione sistematica che soprattutto ma non rubo ovviamente spazio a chi mi seguirà ci permette di capire davvero il significato di una certa giurisprudenza e di un certo atteggiamento dei giudici amministrativi ma cerchiamo di procedere con relativo ordine che cosa è il fenomeno dell'integrazione della motivazione qui bisognerebbe fare un po' di pulizia linguistica perché attorno a questo concetto si agitano tantissime problematiche che in realtà secondo me hanno un'incidenza relativa sul vero cuore del discorso ora integrare la motivazione del provvedimento postula che il provvedimento amministrativo sia immotivato o malmotivato il più delle volte e che in giudizio avvenga qualcosa che non è avvenuto nell'ambito del procedimento amministrativo due a mio parere sono le evenienze possibili vi dico già che scarto dal fenomeno l'attività difensiva cioè non è integrazione della motivazione l'argomentazione difensiva dell'avvocato che nell'atto nella memoria o quant'altro cerca in qualche modo di giustificare l'agire dell'amministrazione perché lì non è integrare la motivazione ma è diciamo così abilmente razionalizzare a posteriori una decisione che evidentemente da sola non sta in piedi ma quello è un fenomeno diverso magari emergerà nelle relazioni che seguiranno ma non è la vera integrazione della motivazione la vera integrazione della motivazione sussiste come vi anticipavo almeno secondo me in due ipotesi specifiche la prima ipotesi è quella in cui il provvedimento sia immotivato sia impugnato in quanto immotivato ma in corso di giudizio e questo in rapporto alle argomentazioni delle parti e ai poteri istruttori del giudice emergano elementi materiali che in qualche modo erano impliciti nella decisione originaria ma vengono esplicitati dalle parti fondamentalmente in corso di giudizio emerge come il provvedimento che era di solito discrezionale o tecnico discrezionale talvolta anche vincolato che era mal motivato superficialmente motivato perplessamente motivato in realtà a fronte di quanto emerge su basi documentali su allegazioni difensive e quant'altro è caratterizzato da una piena ragionevolezza o sostenibilità si rende esplicito ciò che è implicito qual è il ragionamento il ragionamento è quello per cui la motivazione discorsiva dell'atto è qualcosa di sovrastrutturale è forma la sostanza è altrove nel dossier procedimentale fondamentalmente è nel fascicolo che ha l'amministrazione se si produce in giudizio un pezzo di fascicolo diciamo così un documento una pezza d'appoggio che per relazione ma fondamentalmente concezione estensiva della relazione mi giustifica la decisione la motivazione è integrata e soprattutto il provvedimento resta in piedi e perché resta in piedi? resta in piedi perché è assorbito il vizio motivo è un assorbimento molto particolare il difetto di motivazione è assorbito è annullato è reso rilevante dalla valutazione della completezza dell'attività istruttoria della correttezza della decisione parole povere è legittimo l'atto in cui l'amministrazione ha deciso bene ma spiegato male esiste giurisprudenza che ragiona in questi termini e in questi modi adesso non vi cito le sentenze ma le ho nella mia relazione qui stiamo attenti a un particolare a una serie di particolari forvianti che a mio parere anche nel dibattito teorico hanno davvero inquinato la discussione spesse volte ma non faccio un torto alla giurisprudenza è un problema di argomentazioni sono argomentazioni raffinate e legittime da un certo punto di vista ma spesse volte si giustifica quest'ordine di idee non sulla base delle premesse che io ho cercato di individuare ma sulla base di richiami generici al concetto di giudizio sul rapporto al problema della decuotazione dei vizi formali al problema della disciplina del 21 oxies comma 2 e quant'altro in realtà io penso che quelli siano dei vicoli ciechi nel senso che esistono delle serie argomentazioni per negare che il 21 oxies comma 2 si applichi al difetto di motivazione infatti il problema non è che il difetto di motivazione è un vizio formale il problema secondo me va impostato in maniera diversa cioè perché il giudice può ragionare in questo modo e perché queste sentenze hanno un ubicon system a mio parere il giudice può farlo perché fondamentalmente si riserva un potere di interpretazione della domanda giudiziale che va a scendere i vari vizi motivi in entità autonome e va fondamentalmente a stabilire quale dei vizi motivi in caso di accoglimento possa garantire alla parte ricorrente l'effetto pratico più utile ed è interpretando la domanda che si arriva al risultato di decuotare il vizio formale o di decuotare il difetto di motivazione a favore di una sentenza che a volte conclama il difetto della decisione a volte salva l'amministrazione che ha addotto argomenti ulteriori a sostegno della legittimità dell'atto argomenti che probabilmente sono dedotti in giudizio alla stregua di eccezioni ossia di fatti impeditivi dell'annullamento dell'atto immotivato questo è il primo fenomeno esiste poi un fenomeno più complesso e più delicato vi dico nel momento in cui ho preparato questa relazione ho detto sicuramente è capitato non può non essere capitato fortunatamente ho trovato una bellissima sentenza del Tarlazio del 2015 che va addirittura oltre le mie le mie fantasie cioè il giudice amministrativo arriva a dire anche altro e guardate che nella logica che io vi sto cercando di di segnalare lo dice a ragion veduta se il giudice amministrativo dice ovviamente sulla base delle argomentazioni difensive delle amministrazioni di eventuali controinteressati che la motivazione del provvedimento può essere integrata anche attraverso elementi di fatto e di diritto che non erano implicite nella decisione originaria ma che in qualche modo sono emersi o sono stati conosciuti dall'amministrazione dopo l'emanazione del provvedimento o addirittura in corso di giudizio è molto forte come come ipotesi fortunatamente qualche giudice l'ha consolidata e quindi non rende la mia riflessione un puro esercizio di stile perché avviene questo anche qui se andiamo a vedere le sentenze giudizio sul rapporto Giannini Piras deputazione della motivazione Giannini vizi formali vizi sostanziali utilità perseguita dal ricorrente e quant'altro io penso che anche qui la ragione per la quale accade questo non vada ricercata nelle etichette ma vada ricercata su problemi molto più profondi e il problema profondo sul quale secondo me vi è molto da ragionare in dottrina anche in giurisprudenza e soprattutto però vi dirò a livello di legislazione amministrativa sostanziale processuale è data dal fatto che un'integrazione della motivazione in questa prospettiva e ben inteso con salvezza del contraddittorio con salvezza del potere di proporre motivi aggiunti nei confronti delle nuove allegazioni è possibile in virtù del fatto che non esiste nel sistema amministrativo italiano una sorta di efficacia preclusiva a danno dell'amministrazione ossia l'emanazione del provvedimento amministrativo non impedisce alla pubblica amministrazione di produrre anche in giudizio elementi istruttori o decisionali tali da giustificare la decisione originariamente illegittima che viene un po' impropriamente sanata in un momento successivo e questo dipende fondamentalmente dal fatto che l'amministrazione non perde il proprio potere dopo aver emanato il provvedimento ci sono tante argomentazioni attraverso cui io vi potrei dimostrare che è così la prima e più importante è quella per cui il termine di conclusione del procedimento non determina la consumazione del potere poi in dottrina vi sono scritti di Clarich e Trimarchi che hanno argomentato in senso opposto vero è però che la tendenza maggioritaria mi sembra per ora ancora ancorata a negare un'efficacia preclusiva comeppure la preclusione non scatta nemmeno a seguito della pendenza del giudizio almeno secondo questi orientamenti anche qui quindi l'effetto finale qual è? è quello per cui il nostro giudice laddove ovviamente aderisca a queste letture del fenomeno ma vi sono casi in cui lo fa il giudice ritiene che nell'analisi complessiva delle argomentazioni delle parti si debba dare peso agli elementi sostanziali documentati in giudizio si debba dare fondamentalmente peso a quella che è la legittimità o legalità sostanziale e non formale del provvedimento anche se è un termine che non mi piace e si debba fondamentalmente stabilire chi ha ragione o torto non tanto sulla base di un raffronto del provvedimento con le norme di azione che fanno da cornice alla sua emanazione ma con il contesto di interessi e con il contesto decisionale entro cui la decisione in qualche modo amministrativa è stata assunta tutto bene? allora vi confesso che raccontata così a me stesso la cosa mi ha anche convinto però mentre studiavo il problema c'era sempre qualcosa che non mi tornava non fosse altro perché io ho speso anni a scrivere e dimostrare il contrario ma quello poi sono passati anni posso anche non importa la cosa ha esaurito il suo scopo ma c'è sempre qualcosa che non torna e che lascia perplessi ad ognuno di voi ovviamente la facoltà di esprimere le proprie perplessità e di ragionare sulle ragioni per cui questo modo di argomentare ha qualcosa che stride io però nella parte finale conclusiva di questa di questa relazione penso che sia opportuno segnalare uno dei punti o più punti critici rispetto a questo modo di ragionare i punti critici però non vanno identificati nelle deficienze della disciplina sostanziale ossia dell'articolo 3 o dell'articolo 21 perché come penso sia emerso è scorretto metodologicamente attribuire a quelle norme un peso decisivo rispetto a quanto stiamo argomentando perché quelle norme vengono interpretate in un certo modo in una certa maniera sulla base di premesse che a volte restano implicite e che questo pomeriggio sto cercando di rendere invece esplicita qual è allora il punto critico di questa visione del fenomeno o uno dei punti critici di questa visione del fenomeno probabilmente probabilmente quando si va a interpretare la domanda assorbendo le questioni inerenti alla motivazione formale in questioni inerenti alla completezza dell'istruttoria e soprattutto alla correttezza della decisione si muove implicitamente dall'assunto per cui il ricorso amministrativo il ricorso giurisdizionale amministrativo va inteso come una critica unitaria all'agire amministrativo nell'ambito della quale la graduazione dei motivi non è così rilevante e soprattutto questo è il passaggio tecnicamente più delicato si assume che l'azione di annullamento si basi probabilmente su una causa petendi unitaria e cioè che il signor ricorrente voglia l'annullamento dell'atto per ottenere una decisione favorevole o per lasciare le cose come stavano prima e quindi per impedire nuove decisioni sfavorevoli e che quindi sulla base di questa premessa il giudice debba trattare l'affare nella sua unità e unitarietà questo rende a valle possibile al giudice modulare gli effetti dell'accoglimento della domanda modulare lo stesso contenuto della domanda assorbire determinate censure a favore di altre o rendere irrilevanti certe censure laddove altre abbiano un peso materiale differente ecco io non so se dal punto di vista tecnico questo questo argomento questa argomentazione sia così sostenibile da due punti di vista il primo che ci riporta al diritto sostanziale le norme che disciplinano l'agire amministrativo sono poste anche nell'interesse dell'individuo se è così questo radica nell'individuo un uso il termine senso tecnico un diritto a far valere la violazione di quelle norme in quanto tali che vuol dire che i motivi di ricorso non sottendono una causa petendi unitaria ma sottendono tante cause petendi quanti sono i vizi dedotti se io ammetto che le cause petendi siano tante che quindi le domande siano tante non è così scontato anche se si potrebbe dire non è così scontato che il giudice possa trattare la questione in maniera unitaria in altri termini questo che cosa vuol dire vuol dire che se la parte ricorrente gradua i vizi motivi in una certa maniera e da un certo peso al difetto di motivazione formale quindi alla sola violazione dell'articolo 3 il giudice potrebbe non poter agire consentendo l'integrazione della motivazione la controparte non potrebbe paralizzare il difetto di motivazione sostenendo che la decisione sia materialmente corretta e questo da che cosa dipende a monte da una certa concezione dell'articolo 3 della legge 241 del 90 come norma modale che mi dice anche se la decisione è corretta nel senso che la decisione è corretta solo se motivata in maniera corretta non se motivata male e decisa bene in maniera che poi non è mai facilmente controllabile in termini assoluti perché c'è sempre un rischio di razionalizzazione a posteriori temuto in tutti gli ordinamenti europei continentali ma anche in Inghilterra quindi questo è il primo dato interessante ma anche qualora si ritenesse che la causa petendi sia unitaria e che quindi il discorso del ricorrente sia unico e che il giudice in qualche modo possa bilanciare i vizi motivi alla ricerca del vizio che effettivamente è idoneo a caducare l'atto e a conformare la futura attività dell'amministrazione non è così agevole pensare che la formulazione di vizi motivi da parte del ricorrente sia indifferente rispetto all'attività del giudice perché nella formulazione dei vizi motivi viene in gioco quanto prescritto dell'articolo 113 comma 2 della costituzione il quale attribuisce a tutti i vizi motivi la medesima dignità logico giuridica per cui in altri termini se una parte fa valere in giudizio la violazione dell'articolo 3 della 241 del 90 in quanto tale quindi non come vizio della decisione ma come vizio della motivazione che non mi permette di capire davvero cosa intendesse fare l'amministrazione nel momento stesso dell'esercizio del potere probabilmente da questo punto di vista i margini per integrare la motivazione o per consentire l'integrazione della motivazione in corso di giudizio cominciano a essere più stretti è chiaro e qui chiudo che questo è un problema grave ed è un problema che resta aperto e apertissimo perché la sua soluzione non può prescindere a mio parere da una riflessione più generale su quello che è il significato della giustizia amministrativa è chiaro che una giustizia amministrativa in cui si consente con una certa elasticità l'integrazione della motivazione è una giustizia amministrativa che salda in maniera probabilmente adeguata il rapporto fra procedimento e processo nel senso che il processo rappresenta un'autentica prosecuzione del procedimento in via contraddittoria e davanti a un soggetto giudice terzo e imparziale rispetto alle parti quindi dal punto di vista istituzionale non è che quel tipo di indirizzo sia un indirizzo da rifiutare in toto ed è un indirizzo che per certi aspetti può essere compatibile con una lettura costituzionalmente orientata dell'intero sistema processuale d'altro canto la tesi per cui l'integrazione della motivazione va guardata con estremo sospetto perché si risolveno i fatti in un favor all'amministrazione diciamolo con la massima serenità è una tesi che noi possiamo accettare ad un prezzo e cioè accettando l'idea che il giudizio amministrativo sia funzionale con una declinazione che non so nemmeno se dirvi davvero soggettivistica oggettivistica perché anche qui le etichette sono pericolose ma un processo amministrativo che sia funzionale sostanzialmente a far valere nei confronti dell'amministrazione le prescrizioni di legge non curandosi ovviamente dell'impatto economico sociale dell'accertamento della violazione di legge nella successiva attività dell'amministrazione quindi un processo che torna ad essere in una lettura deprecata una caccia all'errore dell'amministrazione in una lettura magari più seria e più integrata un processo che è realmente un processo di parti nel momento in cui fa valere la legge nella sua integrità e nella sua serietà anche nei confronti dell'amministrazione bene questo è lo sfondo problematico mi fermo cedo la parola alla dottoressa Zonno e sentiamo qual è il punto di vista del giudice amministrativo grazie vi ringrazio moltissimo per questo invito e soprattutto perché si sviluppa in un dialogo a tre voci che credo comprenda veramente tutti gli operatori del diritto e come dire le varie prospettive in quest'ottica io non posso che parlarvi della mia e addirittura dichiaro apertamente di parlare a titolo personale cioè come giudice ma come giudice singolo e quindi non posso neanche portare come dire il pensiero della magistratura in generale però la premessa che io voglio porre in questa conversazione è questa io credo che l'ambizione di qualsiasi giudice sia quella di tentare quantomeno di dare ragione a chi subisce diciamo un torto e al tempo stesso nel caso opposto tutelare un'amministrazione nel caso in cui si percepisca che il ricorso sia stato diciamo proposto senza che vi sia un interesse effettivamente meritevole di tutela quindi credo che l'approccio mentale del giudice sia quello di tentare di dare ragione a chi ha ragione in quest'ottica un approccio formalistico come dire alla tematica della motivazione postuma e alla tematica dell'integrazione successiva della motivazione svilisce un po' il ruolo del giudice e l'ambizione che il giudice ha nell'ambito di un rapporto mi si consenta di dirlo ho capito che questa locuzione non le piace però insomma io sono sempre stata abituata a sentire il giudizio sull'atto il giudizio su un rapporto a me piace il giudizio sul rapporto e non il giudizio sull'atto io credo che ci sia stato nell'ambito della magistratura amministrativa proprio un cambio di prospettiva e credo che questo sia importante per inquadrare la tematica della motivazione postuma perché io credo che il divieto di motivazione postuma intesa come allegazione successiva delle ragioni che giustificano un atto sia sorto in un tempo in cui il giudice amministrativo aveva un po' le mani legate se vogliamo era un giudice appunto che ragionava sull'atto e intendeva il giudizio di legittimità in maniera molto stretta e molto formale la prospettiva è profondamente mutata perché anche le ultime diciamo relazioni sull'attività della giustizia amministrativa presentate dai presidenti del consiglio di stato non fanno altro che spingere continuamente verso una giustizia di carattere sostanziale che è poi detto in termini più aulici quello che ho detto esattamente prima cioè cercare di dar ragione a chi ha ragione è torto a chi ha torto perciò immagino che il cambiamento di prospettiva sulla motivazione postuma sia il frutto forse di una politica giudiziaria proprio diversa di una mentalità di un approccio diverso del giudice amministrativo alla giustizia amministrativa e quindi diciamo che dichiaro da subito che io sono non sfavorevole all'integrazione postuma della motivazione se questo consente appunto a chi esercita le facoltà giurisdizionali di comprendere effettivamente se c'è un interesse meritevole di tutela oppure no e faccio un'ulteriore premessa perché normalmente questo mio diciamo intervento perché talvolta percorro l'Italia portando diciamo la mia voce facendo ascoltare quello che penso in proposito dicevo molti pensano che un intervento di questo genere cioè una dichiarazione aperta di favore verso la integrazione postuma della motivazione sia un intervento a favore dell'amministrazione cioè che un giudice che ragiona negli stessi modi e negli stessi termini in cui ragiono io è un giudice pro amministrazione e invece vi porterò diciamo un esempio pratico da cui si ricava che non è affatto così cioè la motivazione postuma l'ammissibilità della motivazione postuma non è una sorta di preconcetto e di pregiudizio favorevole all'amministrazione ma può essere e diventa molto spesso lo strumento per tutelare il ricorrente che ha ragione quindi se vogliamo un sistema un approccio in colore e diciamo anonimo almeno nelle premesse e nelle conseguenze io vorrei come dire partire nella mia riflessione da due concetti relativi alla motivazione si parla si parla spesso di motivazione la si intende in maniera unitaria potremmo dire unica come diciamo l'essenza potremmo dire delle ragioni di fatto e di diritto che presiedono ad una scelta amministrativa che è ovviamente una scelta normalmente di carattere discrezionale o tecnico discrezionale in realtà la motivazione a mio giudizio può essere intesa in due modi cioè la motivazione è prima di tutto una motivazione dal punto di vista a definire così ontologica cioè l'insè le ragioni che presiedono alla scelta amministrativa potremmo dire ciò che ha determinato nel processo decisionale dell'amministrazione quella conclusione a cui l'amministrazione è poi giunta quindi la motivazione in senso ontologico consiste proprio in quelle ragioni che hanno determinato la scelta poi c'è la motivazione in senso espositivo potremmo dire cioè la indicazione di quelle ragioni che hanno determinato la scelta dell'amministrazione e sotto questo punto di vista allora dobbiamo distinguere perché la motivazione è ontologica cioè le ragioni che presiedono ad una scelta o ci sono o non ci sono e se ci sono ci sono dall'inizio e se non ci sono non ci saranno neanche successivamente ciò che può in realtà intervenire successivamente è solo la esposizione delle ragioni che hanno determinato quella scelta io capisco che la prima obiezione che si potrebbe fare a questo ragionamento è che le motivazioni le si potrebbero confezionare successivamente e ci si potrebbe ragionare successivamente rispetto ad una determinazione che è stata assunta potremmo dire a cuor leggero e senza particolare ponderazione degli interessi in gioco ma mi riaggancio a quello che ha detto il professore poco fa perché laddove l'amministrazione fosse come dire soggetta all'annullamento di un atto e avesse però la possibilità di riadottarlo in sostanza quelle motivazioni che sono state elaborate successivamente in maniera posticcia dovremmo dire più che posto ma potrebbero essere tranquillamente utilizzate successivamente nella riedizione del potere amministrativo quindi ecco ciò che diciamo su cui mi vorrei soffermare il fatto che la motivazione dell'atto amministrativo ripeto dal punto di vista ontologico esiste dall'inizio e può esistere solo dall'inizio e non potrà esistere neanche successivamente se non c'è sin dall'inizio se noi partiamo da diciamo da questo approccio all'atto amministrativo al processo decisionale della pubblica amministrazione e consideriamo quello che è il diciamo mandato del giudice amministrativo quale verifica della effettiva correttezza del processo decisionale quindi della bontà della scelta della pubblica amministrazione io personalmente non ho ragioni per come dire contrappormi ad una motivazione che venga esposta successivamente nell'ambito del processo amministrativo io vi voglio fare un esempio giusto per chiarire quello che può accadere nel giudizio facciamo un esempio che ovviamente trago dall'esperienza concreta procedura concorsuale procedura concorsuale relativa diciamo alla copertura di un posto in una pubblica amministrazione che prevede lo svolgimento di una prova scritta e poi successivamente di una prova prata nell'ambito di questo primo passo relativo alla valutazione dei candidati uno dei candidati non supera come talvolta spesso accade nei giudizi amministrativi il giudizio favorevole e quindi non accede al passo successivo della prova selezione la motivazione viene espressa normalmente con un voto numerico quindi con un voto che dal punto di vista motivazionale è estremamente stringato e la cui diciamo bottà viene pacificamente considerata ammissibile nell'ambito della cui sufficienza potremmo dire dal punto di vista motivazionale viene pacificamente ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza amministra tuttavia nell'ambito del giudizio che si instaura per reclamare diciamo così l'ingiustizia di questo giudizio il presidente uno dei membri della commissione la commissione stessa tutta non mi soffermo diciamo sulla specificità delle modalità con cui avviene la comunicazione nel giudizio come dire trasmette all'autorità giurisdizionale una io la definirei proprio una motivazione postuma una relazione in cui specifica che il candidato non ha superato il giudizio favorevole non ha superato il giudizio di sufficienza perché dei due quesiti che sono stati proposti all'attenzione dei candidati la risposta si è articolata su due quesiti che cumulativamente sono stati sottoposti all'attenzione dei candidati la risposta si è articolata soltanto su uno di questi quindi sostanzialmente chiarisce che il candidato è stato bocciato perché ha risposto soltanto ad una delle domande che sono state sottoposte alla sua attenzione in realtà dalla lettura dell'elaborato versato in giudizio emerge che il candidato ha risposto ad entrambe diciamo le domande che sono state sottoposte e che quindi la ragione per cui è stato non ha superato gli iscritti in realtà è errata cioè è sbagliato ha sbagliato la commissione nel giudicare insufficiente se è vero come è vero che il processo decisionale che viene però esplicitato successivamente alla adozione dell'atto chiarisce dice che il giudizio di insufficienza si è fondato sulla valutazione di una cioè sulla considerazione che il candidato ha risposto soltanto ad una delle domande questa è una motivazione postuma credo è una motivazione diciamo che sopraggiunge in corso di giudizio ed è una motivazione che è certamente favorevole all'amministrazione non è perché diciamo che l'amministrazione si è data un po' la zappa sui piedi da sola si sente diciamo la necessità in un caso come questo di fornire tutela a chi almeno diciamo all'apparenza delle carte di giudizio subisce un torto oppure noi questa diciamo questa comunicazione successiva che chiarisce integra la motivazione precedentemente espressa e smentisce al tempo stesso la motivazione già espressa dalla commissione non la dovremmo prendere in considerazione e per quale ragione potremmo dire così il giudice dovrebbe tirarsi indietro da una valutazione di questo genere per lasciare privo di tutela un soggetto che invece ne ha titolo in primo grado effettivamente devo dire che il collegio ha ritenuto sufficiente questo elemento per annullare l'atto cosa peraltro rarissima nell'ambito della statistica potremmo dire giudiziaria per annullare l'atto di diciamo mancato superamento della prima fase del concorso e il ragionamento fatto non ha come dire svolto in maniera chiara in maniera particolarmente approfondita la tematica della motivazione postuma ma è stato considerato come un elemento potremmo definirlo indiziario indicativo del fatto che le operazioni della commissione non si fossero svolte correttamente e quindi l'amministrazione avesse operato non correttamente quindi effettuato una motivazione erronea più che insufficiente potremmo dire ed ha per questo accolto tra le altre ragioni il ricorso proposto dal ricorrente devo però dire che proprio in questo caso il consiglio di stato ha ribaltato la decisione ma su diciamo su un aspetto che mi convince poco perché la ragione per cui è stata esclusa la rilevanza di questo elemento motivazionale sopraggiunto di questo vizio dell'atto è stata fondata sul fatto che si tratta proprio di un atto sopraggiunto che come tale non incide sulla legittimità degli atti precedenti io personalmente continuo a essere convinta che la motivazione diciamo adottata in appello sia come dire molto scarna e poco convincente sotto questo punto di vista perché non affronta la tematica della motivazione postova ma soprattutto non si come dire non si rende conto del fatto che l'aspetto sopraggiunto ecco consente di trarre un elemento indiziario approbatorio potremmo dire di erroneità della decisione della pubblica amministrazione in primo grado e non dà conto delle ragioni per cui peraltro questa erroneità viene superata attraverso un atteggiamento che mi pare un po' formalistico d'altro canto aggiungo la cartina di tornasole potremmo dire così delle della sostenibilità del ragionamento che io faccio in questa sede è questa laddove l'amministrazione subisca un annullamento semplicemente per vizio di motivazione i poteri conformativi e quindi senza tener conto delle eventuali spiegazioni che siano sopraggiunte i poteri conformativi dell'amministrazione restano assolutamente liberi quindi l'amministrazione potrà riadottare l'atto motivandolo in maniera differente in maniera come dire più esaustiva e il ricorrente nella diciamo sotto il profilo sostanziale otterrà una vittoria che è soltanto parziale perché dovrà nuovamente adire il giudice amministrativo al momento della riaduzione dell'atto laddove esattamente conforme dal punto di vista dispositivo rispetto a quello precedentemente adottato e avrà anche l'onere di sostenere doppiamente le spese di giudizio relative alla diciamo alla necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria aspetto questo che a me non pare propriamente anzi mi rivolgo forse più all'avvocato non pare propriamente irrilevante in un momento economico potremmo dire così come quello attuale in cui probabilmente l'accesso alla giustizia amministrativa diventa anche faticoso anche per i costi che sono che i ricorrenti sono costretti a sostenere diciamo che conclusivamente io ecco trovo poche ragioni per escludere la possibilità di una motivazione postuma in corso di giudizio e mi pare che invece la possibilità di consentire all'amministrazione e alle parti in generale di integrare gli elementi che giustificano un determinato atto sia l'aspetto che forse più corrisponde alle esigenze effettive di tutela d'altro canto faccio anche un ragionamento di questo genere ma se una motivazione di un giudice di primo grado non è corretta ma la decisione che nella sostanza ha assunto invece lo è il giudice d'appello non fa altro che come dire confermare la sentenza ma con diversa motivazione sostanzialmente il diciamo processo logico che si viene a compiere nel caso di ammissibilità della motivazione posto ma è assolutamente identico cioè consentire di salvaguardare come dire una decisione finale corretta negli esiti ma giunta attraverso un percorso che potrebbe invece non essere corretto cioè si tratta di salvaguardare se vogliamo gli aspetti sostanziali di giustizia e di effettività della tutela che consentono di rendere non solo più accessibile la giustizia ma anche più come dire veloce la possibilità per il ricorrente di ottenere effettivamente il bene della vita che viene perseguito ragion per cui io personalmente diciamo come ho detto in premessa dichiaro da subito che ecco non ho ragioni preclusive per sostenere la inammissibilità della motivazione postuma ed è su questo che vorrei come dire condensare il mio intervento e la mia partecipazione a questo congresso ringraziamo la dottoressa Zonno per questa attenta ricognizione e anche per una assunzione esplicita di responsabilità che a mio parere è già di per sé un valore perché il dibattito credo si nutra anche di chiarezza e la dialettica implica sempre necessariamente che vi sia nitore nelle posizioni espresse in questo caso lo è stato sicuramente con degli argomenti che sono peraltro interessanti e che come io stesso profilavo hanno una ragione d'essere rispetto a determinate concezioni della giustizia amministrativa come servizio poco dispendioso efficace in grado di garantire una concentrazione delle tutele un'immediatezza delle tutele e quant'altro cedo adesso la parola all'avvocato Bigolaro per sentire la sua prospettiva allora si sente? buonasera io sono ringrazio innanzitutto l'invito sono contento di essere qui sono davvero contento anche se devo dire pensavo di avere le idee chiare e non le ho più dopo la bellissima relazione di presentazione introduttiva del professor Cassatella ecco io le idee chiare forse non le avevo neanche prima però certo le ho più confuse di prima nel senso che la diversità tra le varie ipotesi in cui finora abbiamo sempre parlato nella prassi di integrazione della motivazione di motivazione postuma ecco questo è assolutamente corretto ma pone una serie di problemi ulteriori il frazionamento delle cause petendi la distinzione tra procedimento e processo l'ampliamento del discorso alla natura del processo se è un processo sul rapporto sull'atto ecco non è facile venirne fuori io proverai a mettere in fila i cocci che mi rimangono di quello che avevo in mente dopo aver sentito questa relazione i cocci sono più o meno questi c'è la Bibbia la Bibbia è la 2.41 io devo dire ho studiato diritto amministrativo in un'epoca lontana in cui non esisteva un obbligo di motivare l'atto amministrativo era una buona cosa se uno motivava l'atto amministrativo ma non era necessario perché non c'era l'articolo 3 della 2.41 ecco adesso credo che la motivazione sia scritta nella Bibbia sia una cosa con una sua sacralità la motivazione dell'agire amministrativo perché si lega a tutta una serie di istituti che giustificano l'attività dell'amministrazione come è stato detto giustamente è un presidio di legalità un presidio del diritto di difesa nei confronti del potere amministrativo quando viene esercitato in modo sbagliato in modo scorretto e si salda a una serie di istituti la comunicazione dell'avvio del procedimento la partecipazione l'istruttoria la motivazione si salda è vero non è quasi mai una cosa che sta per conto suo il difetto di motivazione rientra in un cambiamento epocale dell'agire amministrativo del rapporto tra il cittadino e l'azione amministrativa che si traduce nella 2.41 allora la motivazione deve esserci la regola è quella per cui la motivazione deve esserci anzi la motivazione è la base dell'agire amministrativo perché dà conto di ciò che sono le ragioni fattuali e le ragioni giuridiche dell'esercizio del potere nel momento in cui io esercito il potere sto esercitando un potere che ha una primazia che prevale sul cittadino e perché esercito questo potere che prevale sul cittadino perché ci sono dei motivi per farlo e devo dire quali sono perché in questo modo il cittadino potrà difendersi potrà controllare potrà verificare potrà eventualmente contestare avanti a un giudice la correttezza dell'agire amministrativo la motivazione postuma è vero ci sono tante cose che vanno sotto il nome di motivazione postuma di integrazione della motivazione e forse stiamo usando lo stesso nome per dire delle cose diverse l'attività difensiva in che modo può integrare una motivazione claudicante di un atto che è oggetto del giudizio impugnatorio ecco vale questo motivare a integrare una motivazione non lo so so che guardando concretamente in giro le ipotesi in cui c'è l'integrazione della motivazione sono quelle del 21 octes se c'è un'attività vincolata allora è chiaro che la motivazione può essere integrata se c'è ok sto usando il termine in modo improprio ma no l'idea però è quella se l'amministrazione riesce a fornire la prova che l'atto sarebbe stato quello avrebbe avuto quei contenuti perché erano vincolati quei contenuti allora la mancanza della motivazione diventa un vizio decuotato so che anche qua la decuotazione sto usando tutti i termini in modo improprio alla stregua dei concetti espressi molto chiaramente dal professor Cassatella in partenza però ecco è per intenderci in che modo si può derogare alla regola della necessità della motivazione il 21 octis è un'ipotesi in cui quella regola subisce un'attenuazione un'altra ipotesi è quella in cui tutto sia chiaro tutto sia chiaro in partenza cioè manca non so l'individuazione di una normativa ma tanto è facile capire qual è la normativa che avrebbe dovuto essere citata nell'atto e non è stata citata oppure tutto è chiaro in base agli esiti dell'istruttoria è mancata una esplicitazione di qualcosa che già c'è in tutti gli atti procedimentali che sono stati compiuti per giungere a un certo provvedimento quello che va evidentemente salvaguardato è il diritto di difesa nel procedimento e nel processo cioè va bene l'integrazione della motivazione anche in questi modi eterogenei in cui si compie a condizione che non venga preclusa la tutela procedimentale del singolo e che non venga leso il diritto di difesa del singolo nei confronti del potere pubblico tutto questo ha a che vedere quando avviene in giudizio quando l'integrazione avviene in giudizio con una modifica della causa petendi del petitum forse sì perché se un giudice non annulla un atto che manca di motivazione in virtù di una forma in questo panorama eterogeneo di integrazione della motivazione e se non avviene questo vuol dire che lascia passare una modifica di quello che è il petitum cioè è cambiato l'oggetto dell'atto impugnato l'oggetto del giudizio è cambiato l'atto impugnato l'atto impugnato è stato integrato in qualche modo giusto sbagliato che sia legittimo e legittimo che sia ma c'è una modifica della causa petendi e del petitum cioè qualche cosa che non che è cambiato rispetto ai principi sommi della domanda della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quindi c'è effettivamente un rischio di ultra petizione un collegamento con l'ultra petizione ecco io direi questo che le distinzioni vanno benissimo e sono molto chiare e assolutamente condivisibili però al di là delle distinzioni c'è qualcosa che unifica in una logica complessiva tutti questi fenomeni di integrazione della motivazione che avviene in giudizio ed è una tendenza che potremmo sostanzialmente dire una tendenza salvare il salvabile salvare il salvabile dell'azione amministrativa se c'è una possibilità di considerare salvabile ciò che è stato fatto anche in presenza di una motivazione claudicante io ho molto colto naturalmente il significato della distinzione tra il vizio di mancanza di motivazione e il vizio di violazione di legge violazione dell'articolo 3 da una parte e la figura sintomatica dell'eccesso di potere di difetto di motivazione dall'altra però ecco tenderei a trovare nell'ordinamento delle analogie che sono tra cose diverse ma che esprimono questo concetto di salvare il salvabile dell'azione amministrativa quando è stata compiuta in presenza dei presupposti sostanziali pur con dei vizi formali che possono considerarsi decuotati ecco per usare un termine che è impreciso ma che nella prassi si usa per esempio voi avete presente negli appalti il soccorso istruttorio non c'entra niente però c'è una logica analoga il soccorso istruttorio processuale allora il soccorso istruttorio è diventato un istituto generale non ha più un carattere sanzionatorio tutte le volte che c'è un vizio nella presentazione di una domanda in sede di gara se questo non c'entra con l'offerta tecnica o con l'offerta economica quel vizio può essere salvato diciamo così attraverso il soccorso istruttorio dopo progressivamente la giurisprudenza perché è frutto della giurisprudenza questa estensione ha ammesso il soccorso istruttorio postumo cioè anche dopo la giudicazione cioè un atto amministrativo un provvedimento che è la giudicazione che viene compiuto in mancanza di certi presupposti e non c'è stata la dimostrazione dei requisiti per la partecipazione e c'è un obbligo dell'amministrazione della stazione appaltante di dar corso al soccorso istruttorio sanando sostanzialmente la giudicazione poi interviene il consiglio di stato mi pare una copia di sentenza del 2017 la 975 la 976 vado a memoria ma potrei anche sbagliare che introduce una cosa più strana ancora il soccorso il soccorso istruttorio processuale cioè io come avvocato impugno una giudicazione un provvedimento dicendo che c'è stata una violazione di legge e c'è stata davvero quella violazione perché effettivamente chi ha partecipato non ha provato l'esistenza di requisiti che avrebbe dovuto provare c'è una imperfezione un vizio anche essenziale in ciò che è contenuto nella busta numero 1 diciamo una busta che contiene la documentazione per partecipare a una gara quel vizio c'è ugualmente ritiene il consiglio di stato che quel vizio possa essere sanato in giudizio il giudice si sostituisce all'amministrazione e il giudice ritiene che se viene provato in giudizio da parte del concorrente che non ha presentato quei requisiti che lui quei requisiti gli aveva al momento in cui scadeva la domanda di presentazione di partecipazione alla gara va bene così non c'è più interesse perché è evidente che quei vizi non ci sono sostanzialmente e avrebbero potuto essere dimostrati se qualcuno li avesse chiesti perché non esistevano quei vizi quei requisiti c'erano e c'era l'interesse del concorrente a dimostrare di avere quei requisiti è una cosa stranissima ma la logica non è diversa la logica è quella di salvare anche in questo caso il salvabile che dal punto di vista dell'avvocato significa fare un ricorso ecco qui mi riallaccio che può essere molto pesante questo profilo del contributo unificato che poi non viene neanche restituito adesso tralascio i dettagli tecnici che fanno parte della professione per far valere un vizio che c'è e che però non produce l'annullamento dell'atto perché tu ti trovi in una situazione in cui non hai più l'interesse perché il giudice ha applicato il soccorso istruttorio processuale è uno strano istituto ma trovo delle analogie con quanto quella che è la logica la base di tutto ciò il fenomeno il dogma come si diceva della inesauribilità del potere amministrativo questo è molto importante cioè il fenomeno alla base di tutto ciò è che una situazione amministrativa non può mai essere fotografata ferma il giudice non può esaminare una situazione amministrativa ferma perché c'è sempre un'amministrazione di mezzo che ha un potere amministrativo che può esercitare che è doveroso che lo eserciti se ci sono i presupposti per farlo e che è inesauribile tornando al dogma della inesauribilità ecco questo anche in corso di causa come giustamente è stato ricordato ed è un problema il problema per il giudice per le parti del giudizio è quello di monitorare l'esercizio del potere amministrativo in corso di causa e di farlo in modo in cui il processo possa rapportarsi in tempi effettivi reali con l'esercizio del potere amministrativo è un rapporto di andirivieni come si dice tra il procedimento e il processo io adesso non so se tanto vado fuori tema e quindi mi perdonerete faccio presente questo che al Tarveneto stiamo sperimentando uno strumento atipico una udienza camerale non cautelare voi sapete che la camera di consiglio ci si va se c'è un'istanza cautelare oppure se c'è un rito speciale tipo quello del silenzio o dell'accesso ci si può andare anche al di fuori di queste ipotesi il codice del processo amministrativo non dice nulla però l'udienza camerale ha dei vantaggi vantaggi diciamo in termini di tempestività di agilità non hai il problema della comunicazione non hai il problema dei carichi di lavoro dei magistrati non hai il problema delle memorie 40, 30, 20 giorni prima cioè hai una serie di caratteristiche di agilità può essere utilizzata un'udienza camerale al di fuori delle ipotesi previste dalla legge può essere creato un ruolo delle udienze camerali non cautelari in cui il giudice il collegio esamina quali situazioni quali ostacoli quali caratteristiche ci siano nello svolgimento del processo compresa una verifica eventuale di che cosa realmente sia la valutazione dell'amministrazione o di come stia muovendosi l'amministrazione nel corso del giudizio ecco questo è un problema ma è un problema aperto e noi pensiamo che possa essere d'ufficio fissata una camera di consiglio di questo tipo e possa essere anche chiesta dalle parti non per produrre diciamo un'udienza finalizzata una sentenza semplificata lo strumento può essere quello del 71 bis dell'istanza di prelievo che può portare una camera di consiglio in vista di una sentenza semplificata ma anche per valutare ciò che potrebbe essere valutato anche senza quell'udienza cioè se ci sono per esempio delle necessità di risoluzione di problemi istruttori ecco questo nel rapporto tra procedimento e processo che è un rapporto che è costante che è caratteristico perché tu hai a che fare con due parti che sono uguali quando sono nel processo ma non sono uguali quando sono nel procedimento perché nel procedimento c'è una parte l'amministrazione che esercita un potere certo il giudice deve verificare la correttezza dell'esercizio del potere ma è una questione che ha evidentemente a che fare con problematiche di carattere generale il problema generale vero forse è quello della sindacabilità della discrezionalità amministrativa da parte del giudice e che è un passaggio fondamentale della tutela dei cittadini e delle imprese ecco perché tornando al discorso di caratteristico c'è il fatto che il processo interagisce con il procedimento anche indipendentemente dalla sentenza certo se c'è la sentenza è chiaro che c'è il potere conformativo della sentenza e a quel punto l'effetto sarà quello della sentenza sull'attività dell'amministrazione ma anche l'esistenza del processo interagisce col procedimento nel momento in cui l'amministrazione interviene il suo proprio operato modifica il proprio operato e questo ha a che fare con la necessità di garantire una estensione della tutela processuale sotto molti profili anche nei confronti di un potere che è inesauribile va davanti va davanti raccontando di quella che mi sembra la sentenza più importante dell'anno e ognuno ha le sue preferenze ecco io ho una preferenza è uscita l'anno scorso una sentenza del Consiglio di Stato che è la 1731 no aspettate 1321 2019 che racconta una storia molto particolare c'è un professore universitario una professoressa universitaria di diritto del lavoro che aveva presentato una domanda di ammissione per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale le dicono di no una prima volta c'è un ricorso al Terlazio su questo giudizio negativo della commissione di valutazione per l'abilitazione nazionale e il ricorso al Terlazio viene accolto cioè c'è una contraddizione nella motivazione meritava viene annullato il diniego di abilitazione conseguentemente viene nominata una nuova commissione viene rifatta alla valutazione c'è di nuovo un diniego c'è di nuovo un ricorso al Terlazio c'è di nuovo una sentenza che accoglie il ricorso e annulla il diniego siamo a due a quel punto non succede nulla passano i mesi nonostante le diffide il ministero la commissione di rivalutazione non procedono a esaminare la posizione di questa professoressa parte un giudizio di ottemperanza che viene ancora accolto dopo c'è un ulteriore diniego su quello che viene fatto dall'amministrazione da una nuova commissione di rivalutazione la terza in esito giudizio di ottemperanza e la pronuncia di ottemperanza e questo nuovo diniego viene di nuovo impugnato al Terlazio e il Terlazio questa volta dà torto alla ricorrente dicendo no ma un attimo è vero che hai avuto ragione prima ma c'è una discrezionalità dell'amministrazione valutativa che è comunque incomprimibile anche in sede di ottemperanza a precedenti sentenze fin qui siamo nella tradizione cioè c'è l'affermazione che il giudizio della commissione costituisce una tipica valutazione tecnico discrezionale che è sindacabile solo in ipotesi di macroscopici vizi di logicità incongruenza contraddittorietà e tanto comporta che anche in sede di ottemperanza l'effetto conformativo della sentenza non può espandersi a delidere tale discrezionalità ok questa è la tradizione dopodiché succede che si va in consiglio di stato il consiglio di stato in una situazione che sembrava indirizzata in un certo modo in relazione alle precedenti adunanze plenarie decide in modo nuovo in un modo molto osè cioè sostanzialmente prende posizione sul giudizio di ottemperanza dicendo che è vero quello che diceva Terlazio e non si può ritenere che sia soppressa la discrezionalità valutativa per effetto del giudicato e dell'ottemperanza sul giudicato va bene poi però esamina il nuovo diniego della terza commissione di valutazione rileva che c'è un eccesso di potere un difetto di motivazione tanto per restare in tema la motivazione formulata dalla commissione è sfornita di supporto e poi c'è anche una divaricazione tra la valutazione la terza valutazione e le prime due c'è un deficit motivazionale una contraddittorietà insomma è come se dicesse l'ho capito che non gliela vuoi dare l'abilitazione a questa professoressa e quindi il terzo diniego di abilitazione viene annullato dal consiglio di stato in accoglimento dell'appello e a questo punto la sentenza prende una piega inaspettata occorre a questo punto precisare le conseguenze dell'annullamento il collegio ritiene di tornare sulla questione se dopo l'accertamento della illegittimità di un diniego su di un'istanza l'amministrazione possa negare nuovamente il ricorrente il bene della vita cui il ricorrente aspira in base ad accertamenti o valutazioni che sarebbero potuti essere già compiuti nell'originario procedimento amministrativo insomma stai frazionando il tuo potere di intervento è inesauribile il tuo potere amministrativo però è inesauribile fino a un certo punto perché progressivamente viene compresso il collegio ritiene che non sia accettabile che la crisi di cooperazione tra amministrazione e cittadino possa risolversi in una defatigante alternanza tra procedimento e processo senza che sia possibile divenire una definizione positiva del conflitto cioè annulla una volta per difetto di motivazione annulla una seconda volta annulla una terza volta e tu ogni volta individui un motivo che avresti potuto individuare prima è un'alternanza tra procedimento e processo defatigante che mette in crisi il rapporto tra cooperazione e cittadino sembra di sentire benvenuti l'ultimo benvenuti nuovo cittadino nei rapporti tra amministrazione e cittadino allora questo non è ammissibile questo non è ammissibile e quindi la conseguenza è una conseguenza molto radicale è una sentenza molto lunga molto completa anche questo profilo dottrinale nel ricostruire l'evoluzione del codice di processo amministrativo della giustizia amministrativa nell'assicurare una tutela sempre maggiore nei confronti del potere amministrativo arbitrario afferma il codice di processo amministrativo consente di delineare un dispositivo di chiusura del sistema c'è una norma di chiusura del sistema che deve scongiurare l'indefinita parcellizzazione giudiziaria di una vicenda unitaria ad avviso del collegio questo dispositivo di chiusura può essere identificato nella riduzione progressiva della discrezionalità amministrativa in via sostanziale o processuale cioè man mano che ci sono delle pronunce giudiziarie il tuo spazio di discrezionalità amministrativa viene compresso man mano man mano che tu procedi nell'attività amministrativa dandoti degli auto vincoli sostanzialmente il tuo potere discrezionale viene compresso e poi a un certo punto finisce il tuo potere discrezionale come amministrazione finisce la consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile frattura del rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino derivante da un agire reiteratamente capzioso equivoco contraddittorio lesivo quindi del canone di buona amministrazione dell'affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri in presenza di una evenienza siffatta resta precluso all'amministrazione di tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti del ministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati no guardate che sono delle affermazioni molto importanti anche perché prima si ricordano delle cose che avrebbero dovuto indurre a una diversa soluzione si ricorda il 31,3 del codice del processo amministrativo in cui si dice che il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo se si tratta di un'attività vincolata o quando risulta che non ci sono ulteriori margini di esercizio della discrezionalità ricordano il 34,2 che non consente che ci siano domande di tutela preventiva dell'interesse legittimo quindi tu puoi agire soltanto se hai subito una lesione non preventivamente ciò nonostante la conclusione è quella che dicevo cioè non c'è più discrezionalità il susseguirsi di tre giudicati di annullamento ha l'effetto di svuotare l'amministrazione del proprio potere è necessario contemperare la regola per cui il processo amministrativo non può attribuire un bene della vita prima della determinazione della pubblica amministrazione quindi il giudice non può sostituirsi all'amministrazione con l'esigenza di assicurare una tutela piena dell'interesse pretensivo stiamo parlando dell'interesse pretensivo di un ampliarsi di ciò che l'amministrato può chiedere all'amministrazione c'è anche quella considerazione che prima veniva giustamente ricordata dall'autressa Zonno lo sviluppo economico e sociale del paese passa anche attraverso una risposta rapida e conclusiva delle ragioni di contrasto tra amministrazione ai cittadini conclusione c'è l'annullamento e nel dare esecuzione alla presente sentenza il ministero appellato dovrà rilasciare l'abilitazione io non lo so ecco faccio presente che è una sentenza come dicevo molto osè ma giustificata dal caso concreto dalle particolarità del caso concreto su cui si si ferma si sofferma ed è l'unica sentenza ricordata nella relazione di apertura dell'anno giudiziario in consiglio di stato se questo significhi un indirizzo di politica giudiziaria come si diceva ecco non lo so ma penso di sì qui mi fermo so che sono andato fuori tema ringrazio e ritorniamo al dibattito bene grazie ringrazio anche l'avvocato Bigolaro che ci ha fatto riflettere su un aspetto fondamentale almeno mi ha fatto riflettere su un aspetto fondamentale e cioè che la logica della 241 del 90 nella sua versione originaria non è la logica della 241 del 90 post 2005 perché la interpolazione la novella del 2005 ha introdotto nella logica della 241 del 90 dei valori che non erano quelli garantistici contenuti nella versione originaria della legge questo anche per quanto riguarda la motivazione perché la motivazione inserita nella 241 del 90 è effettivamente collocata a livello sistematico al centro del sistema non parlo di Bibbia perché quando studiavo la motivazione ho scoperto che la tesi per cui i provvedimenti non vanno motivati era prospettata da alcuni canonisti che nel Medioevo dicevano Dio non motiva niente quindi noi nei rescritti e quant'altro non motiviamo e questo poi è arrivato al nostro diritto amministrativo però la 241 del 90 da questo punto di vista ha effettivamente e anche la Corte Costituzionale va in quella direzione ma anche l'articolo 41 della Carta di Inizia ha effettivamente canonizzato il dovere di motivazione il problema è che a 30 anni di distanza noi ci troviamo con una 241 che ammette tutto il la congelare di vizi formali ma soprattutto ammette la convalida forse anche in corso di giudizio e abbiamo poi un codice del processo amministrativo che arriva nel 2010 in ritardo consolidando certe tradizioni che vanno nella direzione in una direzione diversa ecco da quella che forse era contenuta la 241 è difficile tenere assieme le cose e credo che la dottoressa Zonno volesse integrare la sua relazione un qualche spunto di riflessione mi è venuto ascoltando la relazione dell'avvocato Bigolaro e anche la sua introduzione e la sua relazione 21 octies ma si applica il 21 octies al vizio di difetto di motivazione cioè è una norma che si può è una disposizione che si può interpretare in maniera estensiva io faccio questo ragionamento la seconda parte dell'articolo 21 octies prevede la possibilità di evitare l'annullamento quindi di decuotare i vizi formali se l'amministrazione dimostra in giudizio che l'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato effettivamente adottato e se per caso l'amministrazione non lo dimostra ma si capisce da qualche altra parte cioè l'amministrazione è un'amministrazione inconcludente che si difende male magari che non ha diciamo una particolare capacità difensiva e non è particolarmente brillante però emerge il giudice lo capisce che quell'atto non avrebbe potuto essere diverso nel suo contenuto voi vi sentireste di dire che noi non possiamo applicare il 21 octies cioè che l'amministrazione non si è difesa è stata proprio terribile però comunque noi lo capiamo noi magistrati noi giudici lo capiamo che l'atto quello non avrebbe potuto che essere quello come è stato adottato nel suo contenuto dispositivo voi vi sentireste di dire ecco mettetevi nei nostri panni vi sentireste di dire che l'atto noi lo annulliamo allo stesso anche se abbiamo capito perfettamente che è corretto che è un atto giusto io non mi sento di sostenere questa conclusione perché se anche non emerge dalle difese dell'amministrazione ma emerge comunque nel corso del giudizio che l'atto è stato correttamente adottato credo che risponda pienamente a esigenze di effettività della tutela e in questo caso all'esigenza di non tutelare chi non merita tutela il fatto che non si debba procedere all'annullamento dell'atto quindi credo che da questo ragionamento se volete un po' banale ma credo difficile da superare ci sia come dire uno spunto che ci consente di dire che il 21 octis non è tassativo nelle sue ipotesi è una norma che come dire ha una sua razio estensiva che ci consente di andare al di là di quelli che sono i presupposti letterali diciamo così testuali per la sua applicazione allora se partiamo da questo presupposto cioè se partiamo dal presupposto che l'articolo 21 octis non è tassativo e ha una razio estensiva potremmo dire per la sua applicazione allora possiamo arrivare a dire che il vizio di motivazione è un vizio superabile ai sensi dell'articolo 21 octis cioè che anche al vizio di difetto di motivazione si può applicare il 21 octis perché l'articolo 21 octis non si applica soltanto ai casi in esso previsti e questo perché la razio della disposizione è quella di non sanzionare quei vizi che non siano espressione di un agire scorretto nella sostanza della pubblica amministrazione prima considerazione seconda considerazione voi sapete che il giudice amministrativo ha a disposizione dei poteri istruttori che sono fortemente diversi rispetto a quelli del giudice ordinario civile e si assomigliano molto di più a quelli del giudice penale cioè a dei poteri ufficiosi che ovviamente trovano la loro ragione d'essere nel fatto che è un processo che nasce sbilanciato una pubblica amministrazione forte un privato che può avere delle difficoltà a dimostrare e ad accedere forse anche soltanto agli atti istruttori quindi possibilità per il giudice di esercitare d'ufficio una serie di richieste istruttori che ripeto nel processo civile sono assolutamente impensabili allora il giudice amministrativo chiede chiarimenti all'amministrazione procedente cosa assolutamente pacifica credo che nessuno dubiti anche qui della possibilità di questa operazione potremmo dire processuale all'esito dei chiarimenti l'atto si dimostra essere corretto ritenere che quell'atto che è frutto a questo punto nella scelta decisionale di una motivazione chiaramente postuma addirittura sollecitata dal giudice perché come dire emersa nel processo solo dopo l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice ecco dicevo escludere che quell'atto possa essere salvato in giudizio significherebbe come dire smentire alla base l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice perché a questo punto come dire l'esercizio della facoltà di richiedere chiarimenti non avrebbe ragion da essere sarebbero chiarimenti assolutamente inutili e quindi verrebbero a sconfessare potremmo dire quelli che sono i fondamenti dei poteri istruttori del processo stesso credo quindi che alla fin fine alla base della come dire della scelta di politica giudiziaria consentitemi di chiamarla così impropriamente di ammettere la motivazione postuma forse c'è un principio dell'ordinamento ben più ponderoso potremmo dire poderoso che è quello di conservazione degli atti la sollecitazione mi è venuta proprio in mente proprio ascoltando le valutazioni sul soccorso istruttorio che è quello di salvare il principio che è quello di salvare l'utile di un atto amministrativo che è poi la sostanza delle cose che credo sia l'oggetto a cui deve mirare la tutela giurisdizionale e l'esercizio dei poteri da parte della giustizia amministrativa così come da parte di qualsiasi organo giudicante queste poche considerazioni volevo aggiungere grazie la mia non è una replica ovviamente ma è una chiosa quando mi era capitato di affrontare il tema della motivazione qualche anno fa avevo studiato ero stato costretto a studiare come andavano e come vanno le cose in Francia e le cose in Francia vanno come ci dice la dottoressa cioè da sempre il giudice amministrativo in Francia quando viene impugnato il provvedimento illegittimo e immotivato tenete conto che in Francia il diritto amministrativo esiste dall'età post-rivoluzionaria ma la codificazione dell'attività amministrativa arriva nel 79 quindi tardissimo in rapporto all'Italia addirittura più tardi perché tutto sommato noi siamo stati siamo arrivati nel 90 con la 241 ma siamo partiti un po' dopo la Francia con una idea di sistema amministrativo ma tornando a noi in Francia si è sempre fatto così io impugno il provvedimento il provvedimento è legittimo il giudice chiama l'amministrazione e chiede i chiarimenti in realtà si va un po' oltre i chiarimenti chiede al funzionario amministrativo di votare il sacco d'accordo? molto bello e così va non è stata una prassi immune da critica in Francia effettivamente la codificazione dell'obbligo di motivazione nel 79 forse ha contribuito a mutare un po' il paradigma ma non in maniera decisiva c'è però un problema che è il giudice amministrativo francese e che rapporta con l'amministrazione il giudice amministrativo francese è un giudice che amministra è un giudice che è sempre stato parte dell'apparato amministrativo anche a livello organizzativo quando noi riflettiamo su questo tema come dicevo in conclusione del mio intervento come poi conferma tutto quello che è emerso dopo forse dobbiamo il punto d'attacco del dibattito deve essere molto a monte dell'articolo 3 della 241 o delle sue derivazioni e deve essere rappresentato da quello che noi ci aspettiamo essere la funzione del giudizio amministrativo e in rapporto alla posizione istituzionale del giudice amministrativo nello stato costituzionale di riferimento e quando noi assumiamo e si può assumere che il giudice amministrativo decida consentendo un'integrazione della motivazione andando a vedere qual è l'assetto il rapporto sostanziale di riferimento dobbiamo accettare il rischio non dico accettare l'evidenza ma accettare il rischio che su una certa percentuale di decisioni di questo genere una certa parte di esse cieli un giudice amministratore secondo me è un rischio è un rischio che da un'altra idea di cosa beh ma questo non sta a me a dirlo se noi invece accettiamo una diversa concezione magari più formalistica sappiamo che abbiamo un giudice con le mani legate adesso non mi ricordo chi abbia usato la metafora per cui il vecchio giudice amministrativo quindi quello pre istituzione dei tar ma forse anche pre testo unico del consiglio di stato era un giudice cieco e addirittura senza le mani nel senso che fondamentalmente non aveva spazi reali per conoscere non il merito dell'azione amministrativa ma il merito della controversia con effetti che poi sono erano devastanti dal punto di vista dell'effettività delle tutele perché non possiamo nemmeno credere che la soluzione dei problemi di cui stiamo trattando oggi pomeriggio ma di cui trattiamo sempre sia rappresentata da un ritorno ad un vetero formalismo io credo che però occorra questo è il senso di un dialogo essere consapevoli tutti dei valori che sono in gioco e delle responsabilità a mio parere che dovrebbe avere il legislatore perché quest'anno si festeggiano i 30 anni di 2.41 del 90 guardate che nella 2.41 del 90 ci sono tante cose che andrebbero riviste parlando di motivazione una delle domande che ci si diverte a fare all'esame di diritto amministrativo per vedere insomma come ragiona lo studente è ma la motivazione del provvedimento amministrativo è un elemento essenziale del medesimo? è allora la 2.41 del 90 l'articolo 21 sefzi si introdotto nel 2005 mi dice che l'atto è nullo quando mancano gli elementi essenziali ma quali sono gli elementi essenziali? allora io mi ero posto il problema anni fa e ho cominciato a scartabellare un po' di giurisprudenza e soprattutto un po' di dottrina e allora alla voce elementi essenziali del provvedimento amministrativo che converrete non essere un tema secondario nell'economia di tutto il nostro discorso in generale troviamo allora parte della giurisprudenza e della dottrina segue la teoria pancontrattualistica per cui si finisce al 1325 bene ma è degli anni 30 che si dice che non esiste la causa del provvedimento amministrativo l'oggetto i soggetti disastro altra parte della dottrina la migliore ha inventato ha inventato gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo nella prospettiva del singolo autore allora il soggetto l'autorità il dispositivo molto bello e funziona ma è un'invenzione dell'autore autorevole magistrale però l'imbarazzo è quello di non avere un addentellato normativo altra parte della dottrina in maniera intelligente ma altrettanto pericolosa apre la via al paragone con gli elementi della sentenza perché il provvedimento amministrativo e l'atto di autorità come la sentenza ha tutta una serie di caratteristiche è più vicino alla sentenza che al contratto e allora ragionando in termini diciamo pan giudiziali questa era un'idea antichissima di Mayer ma poi in Italia alcuni l'hanno ripresa forse la motivazione è un elemento essenziale però andiamo poi a vedere le riforme recenti del processo civile e quant'altro si tende ad equotare la motivazione anche lì per cui noi ci troviamo in un imbarazzo enorme se la motivazione fosse nella 241 definita come elemento essenziale del provvedimento tutto il nostro discorso salterebbe perché qualunque vizio della motivazione rischierebbe addirittura di rendere l'atto nullo con effetti problematici se invece non è un elemento essenziale si apre tutto il dato è questo che noi stiamo discutendo di problemi che il legislatore per primo dovrebbe risolvere anche il dogma dell'inesauribilità del potere allora ci sono studiosi di alto livello che hanno comunque contribuito a dimostrare come si possa ragionare diversamente li ho citati prima tuttavia una idea dottrinale può essere come dire inverata se il legislatore in maniera colta prende atto del suggerimento della dottrina e in qualche modo va ad esplicitare ciò che nell'ordinamento non è implicito cioè che il termine per provvedere non so se consume in assoluto il potere perché noi abbiamo tutto il problema dell'attività di secondo grado delle revoche degli annullamenti ma sicuramente si potrebbe dire che scaduto il termine per provvedere l'amministrazione può o non può integrare e altro abbiamo un legislatore che da questo punto di vista è latitante abbiamo mentre 30 anni fa quando l'avvocato Bigolaro riferiva alla sua formazione il diritto amministrativo era una non materia nel senso che era tutto costruito su norme sparse disorganiche e la qualità del diritto amministrativo era la qualità di chi faceva la sintesi allora Sandulli Benvenuti Giannini Nigro e quanti altri oggi la situazione è profondamente mutata perché la 241 del 90 è una legge generale e soprattutto in più occasioni si è vista essere una legge attuativa di principi costituzionali il codice del processo amministrativo è un codice del processo amministrativo quello che manca però è a questo punto forse la sfida dei prossimi decenni è cercare di unire la sostanza e il processo perché la logica non è del tutto coerente la 241 del 90 nasce in un contesto storico muta pelle in un altro contesto storico il codice del processo arriva diciamo così da altri lidi e con altre prospettive le prospettive della sostanza del processo nel diritto amministrativo non stanno secondo me del tutto assieme e oggi abbiamo visto il perché e non è una critica ovviamente ai vari interventi i vari interventi confermano l'esistenza di un problema che nessuno di noi può risolvere da solo posso tirare un po' di acqua al mio mulino assolutamente poi ovviamente se qualcuno volesse intervenire perché la bellezza di questo tema poi è parlare eh sì certo perché poi alla fine perché non è che sia tutta questa occasione ma io parli ogni giorno di queste cose giudice amministratore no non ci piace è una valutazione che in assoluto mi sta benissimo infatti vedevo persone nel pubblico che assentivano sono d'accordo sono la prima a dire che il giudice non deve fare l'amministratore ma qual è l'effetto della tesi diciamo contraria cioè che il giudice alla fine secondo me finisce per non fare il giudice perché l'alternativa è che la motivazione postuma non sia consentita ancora una volta ritorniamo a quella che ho chiamato la cartina di tornasole la motivazione postuma non è consentita benissimo noi annulliamo noi diciamo il giudice amministrativo annulla l'atto l'amministrazione lo rifà esattamente identico nel dispositivo con una motivazione diversa cioè il risultato mi pare decisamente scarso sotto quindi credo sì e no a quanto pare no perché ho scoperto che le amministrazioni non lo rifondono no e io sono favorevole assolutamente all'abbassamento diciamo abbiamo fatto battaglie infinite dal punto di vista associativo per evitare che il contributo unificato fosse alto a volte viene quasi nostanzia dell'interesso casualmente dei primordi del diritto amministrativo che può essere scusate fermi i microfoni perché c'è il mondo che ci segue quindi per gli interventi dobbiamo microfonarci adesso non so se abbiamo posso porgere la mia postazione offrire la mia postazione eccolo lì grazie ecco se qualcuno vuole intervenire abbiamo i microfoni quindi Roberta siamo tutti con te su questo fermo restando che anche ho cominciato quando ancora c'erano gli annullamenti per difetto di motivazione c'era e dopo si rifaceva il ricorso con un po' di motivazione ovviamente a quei tempi si faceva dicendo non c'è la motivazione ma spiegando anche per quali ragioni si preferiva che non potesse esserci una valida però che è comunque un elemento sostanziale non se non è essenziale ma è sostanziale che è ontologica secondo me la motivazione ontologica non quella espositiva mi perdono ma certo la sua esposizione non ha giusto ma ci resta ma chi mi garantisce che quella che viene esposta sia la stessa portata questo non lo sapete nessuno questo per me non è esposto ma che non ha nessuna garanzia che quella motivazione postuma magari per te sia quella motivazione postuma che viene fatta dopo che ci sono letti anche tutte le mie controindicazioni ogni acquisto eccetera sia davvero io voglio voglio vedere cioè io impugno quel provvedimento che secondo me sta costruendo con motivazioni italiane oggi mi si dice che le motivazioni sono quelle ma che garanzia ho io davvero che non sia una bella costruzione postuma che non mi dà nessuna garanzia che non mi dà nessuna garanzia è molto molto quindi è delicato io e questo ho capito c'è anche la 241 in effetti anche nella sua poi cosa ha fatto con la riforma hanno cercato di ovviare ad alcuni di questo all'apposto solo i viti formali cioè da noi e gli atti piccolati dove effettivamente la mancata esplicitazione della motivazione può essere necessariamente che è inutile ma sono mancata esplicitazione ma ecco perché questo voglio dire si qualifica solo una cosa all'avvocato vicolato dicevo che in realtà questa sentenza del Consiglio di Stato ha già un precedente cioè nel 2017 io la chiamavo come dire le sentenze c'è la teoria one shot in realtà sarebbero two shots cioè rifacendovi al cacciatore vecchio film del cacciatore non è del nero si può sparare solo una volta a sola se sta in testaglio è un problema il Consiglio di Stato dice un po' la stessa cosa cioè dici a te ma in stazione lo puoi esercitare un paio di volte il tuo potere ma se stai basta decido io va fatto con riferimento una mancata iscrizione in una rivista ah beh certo ma il concetto era quel della fine cioè era stato un gruppo di accademi che avevano difugnato la mancata iscrizione della loro rivista in un'accreditamento hanno vinto poi è stata la commissione di valutato e di nuovo adatto il regattino a un certo punto a finire davanti al Consiglio di Stato una volta più altrimenti il perante è così che è stato il secondo punto ha detto vabbè sapete che c'è non state né leggere né scrivere a credito io direi ma tu hai esercitato non poter male il tuo potere è un problema stesso ma lei va questo precedente te lo ricordo se ti ne abbiamo parlato grazie Lucia Bobbio avvocatura della PAT e onestamente dopo tutta questa discussione non so più da che parte stare nel senso che sarebbe facile per la difesa della pubblica amministrazione dire no ampliamo la possibilità perché la distinzione che tu avevi fatto prima Antonio rispetto al discorso non stiamo parlando dell'integrazione motivazionale che fanno che fanno gli avvocati però gli avvocati che difendono la pubblica amministrazione con la pubblica amministrazione si confrontano e lavorano quindi è ancora più difficile intervenire e dire beh fin qui è la pubblica amministrazione che agisce da qui in poi è la pubblica amministrazione che difende e su questo arrivo all'esempio che la dottoressa Zonno aveva fatto prima del concorso con la valutazione solo numerica si chiede una un chiarimento rispetto a questo in autonomia in autonomia il presidente si è sentito di dover intervenire di dover dare dei chiarimenti di dare delle spiegazioni e e arrivano a dire la difesa dell'amministrazione mi parli capire che arriva a dire sì perché ha risposto solo a una domanda e non ad entrambe e dopo di che arriva questa motivazione successiva che cozza però con cosa con il fatto perché tutte e due le domande erano svolte allora a casa mia questa amministrazione se avesse agito bene e se la difesa dell'amministrazione avesse operato correttamente avrebbe detto guarda qui c'è qualcosa che di non veritiero che viene esposto c'è un errore nella migliore delle ipotesi e per cui tu intervieni in autotutela e questo doveva essere istruito già nel momento in cui uno legge il ricorso si legge il ricorso si vede che c'è una valutazione magari la parte ricorrente non lo sa che questa è la ragione di un voto così basso non ha capito che l'amministrazione ha fatto questo sempre fra virgolette errore e quindi voglio dire la difesa dell'amministrazione va a vedere e vede che ci sono due domande svolte non una sola e che probabilmente senza sindacare la discrezionalità tecnica di una commissione però dice i conti non mi tornano e se i conti non tornano io arrivo ma allora che necessità c'è di arrivare a dire che c'è una motivazione integrata un soccorso istruttorio insomma in qualche modo cioè non c'è la necessità di tutto questo c'è semplicemente un'amministrazione che o opera correttamente e quindi va in autotutela oppure viene condannata per questo motivo qualsiasi altro tipo di ragionamento secondo me espone le amministrazioni questo caso benissimo in primo grado aveva perso poi è stato ribaltato il giudizio però espone l'amministrazione veramente al giudice amministratore allora io preferisco perdere nove volte su dieci però avere un giudice terzo tutto qui mi sento chiamata in causa allora la particolarità di questa controversia visto che siamo siamo ritornati a questo esempio specifico è che l'atto è stato esibito dal ricorrente perché e ovviamente era favorevole al ricorrente dimostrava come dire la sciatteria diciamo così dei lavori della commissione la particolarità di questa controversia secondo me è che si è risolto tutto troppo velocemente perché è entrato in camerale come cautelare ed è uscito con sentenza a breve quindi l'amministrazione probabilmente non ha avuto neanche il tempo di capire come dire la difesa dell'amministrazione purtroppo non ha avuto il tempo di capire quello che stava succedendo ma comunque in generale non mi pare che avesse grosse intenzioni di muoversi in autotutela ma io mi sento di smentire questa tesi del giudice amministratore perché il giudice alla fin fine ha solo detto i lavori della commissione sono stati svolti male e il risultato di quell'annullamento sarebbe stato pur sempre rivaluta cioè tu commissione rivaluta il giudice si è semplicemente come dire attestato su una valutazione di non correttezza dell'operato dell'amministrazione senza però sostituirsi all'amministrazione nella valutazione tant'è vero che l'elaborato che come dire conteneva la valutazione e lo svolgimento dei due quesiti non è stato mica valutato dal collegio ci mancherebbe appunto cioè non è stato quello l'oggetto della decisione l'elaborato è stato svolto correttamente i quesiti sono stati soddisfatti correttamente nel loro contenuto la valutazione è stata una valutazione puramente come dire formale cioè c'è una risposta a due quesiti mi dici che hai risposto soltanto ad uno hai sbagliato purtroppo probabilmente quella sentenza è stata come dire forse troppa nel senso quella di primo grado è stata troppa perdonate diciamo l'anacoluto cioè nel senso che ha dato ragione su troppi profili della decisione su troppi profili di ricorso mentre sarebbe stato sufficiente annullare soltanto per questo aspetto specifico invece siccome come dire ha ampliato troppo il tema della discussione probabilmente è stata un po' troppo forte ma queste sono valutazioni ovviamente assolutamente come dire alatere che c'entrano poco quindi io continuo a dire che il giudice non fa l'amministratore in questo caso il giudice si limita a dare tutela a chi come dire nella sostanza la merita perché in questo caso c'era un interesse giuridico come dire che era stato individuato come meritevole di apprezzare pensamento ed effettivamente l'eso e quindi il giudice si è limitato a evidenziare l'esistenza di un errore nella correzione degli elaborati tutto qua faccio una come dire porto un po' di scompiglio tanto ormai chi mi ha sentito sono un collega sono Paolo Nasini visto che la volta scorsa ho portato scompiglio porto scompiglio anche oggi per coerenza parto perché siete bravissimi e quindi ma non per piageria ma perché è un tema che forse anche più difficile di quello della volta scorsa perché quello della volta scorsa è il bello che non si capiva e ancora adesso non si capisce il giudicato è un concetto che non si capisce la motivazione lo si intuisce ma pone dei problemi nell'amministrativo nel diritto amministrativo particolarmente gravi e parte da una considerazione che diciamo muove dall'aspetto pratico che era stato tirato fuori all'inizio che dice ma noi dobbiamo dare una risposta perché nell'inconcreta sostanziale effettiva reale ontologica metteteci tutti gli aggettivi che volete perché è quello che vuole la parte ricorrente non è vero sempre cioè è vero per gli interessi pretensivi verissimo verissimo ma attenzione noi siamo inondati di provvedimenti per cui c'è un interesse oppositivo dove l'interesse della parte non è quello di a sapere se ha ragione o torto ma possibilmente di stoppare l'amministrazione quello che c'ha l'abuso edilizio da 30 anni spera che per altri 20 di bloccarla l'amministrazione non che che la parte che il giudice gli dica che ha torto e il difetto di motivazione serve a quello bloccarlo far fuori il provvedimento aspettare che per altri 10 anni tanto cambia l'amministrazione il funzionario va in pensione arriva un altro non sa da che parte prende e per altri 10 anni poi a un certo punto dopo 10 anni qualcun altro scopre che c'è l'ordine di demolizione tanto il processo nessuno avrà chiesto l'istanza di fissazione in udienza quindi da 20 anni che è lì e dopo 30 anni e quello cerca con il difetto di motivazione dopo 30 anni di nuovo di far fuori il secondo provvedimento che magari è pure malmesso come motivazione quello questo si chiama gioco può essere o l'abuso del processo cioè può essere l'abuso del processo in caso di interesse oppositivo no no ma io sto dicendo il bello dell'amministrativo è che è caleidoscopico se uno pensa a quello che sta per andare in pensione magistrato che sta per andare in pensione che viene negli ultimi due anni della sua carriera attinto da un provvedimento disciplinare cosa vuole? vuole sapere se ha ragione o torto? no vuole togliersi dalle scatole il provvedimento per avere due anni di buono andare in pensione ciao ciao se ne va alle canarie si prende l'appartamento alle canarie non lo vede più nessuno cioè quindi la finalità non è sempre quella di avere effettivamente ragione a quel punto diventa interesse dell'amministrazione è esattamente questo cioè l'interesse è di dar ragione a chi ragione toglie chi ha toglie no no perché il ragionamento era quello del ricorrente invece no invece no perché poi c'è anche il bello del terzo culto l'abuso di lizio che nasce dal vicino che il ricorrente gli tirerebbe un'ammazzata sullo ginocchio che non si sa chi è ma c'è perché è quello che agisce con l'amministrazione per l'amministrazione infatti l'amministrazione non si costituisce sono quei casi tipici di abuso e di lizio in cui viene fatto il provvedimento di demolizione viene impugnato il comune non si costituisce perché non c'ha soldi non c'ha la voglia lo fa perché l'hanno instigato e dice giudice pensaci tu a quel punto tu devi chiamare l'amministrazione chiedere all'amministrazione di darti dei documenti che non ha e poi puoi capire se la motivazione era o non era completa e qui è di nuovo un concetto caleidoscopico perché la motivazione postuma può essere postuma perché ed è la maggior parte dei casi che ho visto quando è l'avvocato che ti dice quello che l'amministrazione non sapeva se va bene perché il comune di Andorra o il comune di un comune sperduto delle montagne che però ha la sfortuna di avere magari dei vicini di casa litigiosissimi con questioni in Liguria problematiche in termini di sottotetti magari anche più accentuate che in altre regioni si trova con delle deficienze in termini di competenza di tecnica di capacità anche normativa e tecnica istruttoria e ti trovi che in sede di giudizio però vanno dall'avvocato bravissimo che ti dira fuori tutta la motivazione che prima nessuno aveva mai tirato fuori allora la domanda che mi pongo che io capisco e sono d'accordo in un'ottica sostanzialistica sarei d'accordo ma mi chiedo questo un conto è l'amministrazione che imbeccata e non è solo formale per me è anche sostanziale un conto è l'amministrazione che imbeccata dall'avvocato fa un provvedimento nel corso del giudizio fa un provvedimento motivato tu sei costretto parte a fare i motivi aggiunti ma è un provvedimento dell'amministrazione domanda e questo lo chiedo all'avvocato al professore e alla collega la procura ad litem data dalla parte all'avvocatura all'avvocato quello che è copre è il potere di motivare il provvedimento cioè di fare le veci dell'amministrazione col provvedimento perché tipo cioè nella procura a parte la facoltà di conciliare transigere eccetera c'è anche quella di come dire sostituirsi all'amministrazione anche se l'attività è vincolata perché se è discrezionale è evidente di no ma anche se è vincolata perché questo è un concetto interessante per quanto riguarda perché se invece stiamo parlando di presentare in giudizio un documento che istruttorio che c'era che era presupposto dal provvedimento ma che non è mai stato come dire emerso dallo stesso provvedimento è un'altra cosa ancora se viene fuori una cosa che un documento dell'amministrazione che esce dopo che è una sorta di comportamento che va in contraddizione è un'altra cosa ancora che è quello dell'esempio in buona sostanza di quella causa lì che è quasi che parla dato è parossistica tra l'altro perché di fatto pone un altro interessante concetto la confessione nel diritto amministrativo esiste perché è un altro confessorio cioè stai dicendo ho scritto una fesseria è il problema dell'andare contro all'interesse della parte per cui hai fatto la motivazione quindi è effettivamente un caleidoscopico sistema per cui ridurlo ad unità è difficilissimo e quindi essere preconcettualmente contrario al concetto di integrazione che poi bisogna distinguere in tutti questi sensi perché poi io sono d'accordo il vizio di motivazione probabilmente non è essenziale perché almeno nel diritto societario c'è scritto che quando è nulla la delibera societaria e faccio riferimento al diritto societario e persino nel diritto condominiale perché le sezioni unite hanno detto che cos'è nullo da noi non è ancora chiaro che cos'è nullo ed è una cosa importante questa perché sono gli unici due raffronti nel diritto civile che più o meno si possono avvicinare di grandissima linea alla nostra posizione trovo che quindi dipende veramente da casa a casa e il diritto dei contratti è un universo parallelo che è difficile ricondurre ad unità come esempio come regola generale perché ha tutte delle sue caratteristiche che è difficile veramente ad unità so che non ho aiutato alla compressione e infatti ho premesso che avrei fatto una cosa solo per destabilizzare in realtà scusa se intervengo poi se c'è spazio per altre repliche o per altri interventi volentieri è corretto quello che tu hai segnalato proprio perché mi permette di rilacciarmi a un dato che correndo prima non avevo sottolineato a dovere cioè che effettivamente il peso del difetto di motivazione che aveva in mente Nigro riguardava l'ipotesi di ricorso a tutela di interessi pretensivi e non il classico ricorso nei confronti dell'atto ablatorio rispetto al quale effettivamente tutti i vizi formali questa è la vera critica che si è fatta al 21 Oxies e questo è il rischio di incostituzionalità del 21 Oxies cioè la decuotazione del vizio formale priva il ricorrente di un potere di autentica reazione nei confronti dell'atto ablatorio perché rischia di vedere depotenziato il ricorso quando quando ai sensi del 113 anche un piccolo vizio formale potrebbe a latere dei discorsi dell'abuso del processo consentire una tutela delle prerogative soggettive dell'individuo e questo è effettivamente vero ma ci riporta nuovamente a monte cioè a capire a livello di teoria del processo e di teoria anche dei cosiddetti diritti pubblici soggettivi o chiamateli come volete che cosa noi ci attendiamo da un certo da un certo sistema io a istinto sarei a favore della libertà individuale della autoresponsabilità individuale per cui chiuderei la partita dicendo avvocati e clienti degli avvocati sapete quali sono le situazioni se eccepite un difetto di motivazione assieme ai difetti distruttori a travisamenti del fatto e tutti i sintomi di eccesso di potere vi esponete a quanto abbiamo visto se invece puntate soltanto e questo è un altro discorso sulla violazione dell'articolo 3 della 241 ma non come norma formale ma come norma modale cioè motivare bene equivale a decidere bene se l'amministrazione motiva male ha deciso male questa non è cassatella questo è Betti io a lezione all'università ho sempre in tasca una slide con una citazione testuale di Betti che diceva questo e la teoria di Betti che è la teoria generale del diritto da quel punto di vista fa spazzasi la ritrovo da qualche parte cioè fa proprio piazza pulita dell'adequotazione della motivazione gianniniana tanto che poi a lezione io dopo Betti cito Giannini che dice l'esatto opposto di Betti per cui dico agli studenti scegliete voi da che parte stare personalmente quando ho potuto io questa tesi di Betti l'ho venduta ovunque e mi piace di più ma questo è un problema mio non è un problema vostro e tantomeno non è un discorso scientifico in termini assoluti però effettivamente è vero che il diritto amministrativo è caleidoscopico e soprattutto ha un'identità cangiante molte delle innovazioni di cui parliamo dequotazione della motivazione teoria del giudizio sul rapporto e quant'altro sono state tutte concepite avendo in mente la giurisdizione esclusiva diritti soggettivi quindi in quel contesto cambia tutto nel classico processo di legittimità le cose possono essere diverse anche se non mi sento poi sentendo la testimonianza della della dottoressa rispetto alla controversia decisa e alla peculiarità del caso concreto è anche vero che ci sono casi concreti in cui l'integrazione della motivazione può stridere con una certa idea di sistema ma poi essere concretamente e materialmente opportuna e utile al giudice e alle parti come ha ragione Roberta De Pretis nel dire che nulla ci garantisce del fatto che la ragione adotta dopo sia quella originaria e questo perché l'unica cosa su cui io dissento rispetto alla dottoressa è il concetto di motivazione ontologica perché il diritto è verbale e quindi la vera motivazione è quella scritta ma non voglio veramente adesso non ne sono troppo convinta che la vera motivazione sia quella scritta perché ci può essere un allora noi dobbiamo fare i conti anche con le persone che sono a disposizione delle amministrazioni e parlo anche dell'amministrazione della giustizia quindi ci metto in mezzo pure i magistrati giusto per non far torto a nessuno cioè si può non essere capaci di esprimere in maniera eccelsa le ragioni che presiedono ad una decisione non è una cosa del tutto improbabile ma magari la decisione è corretta no? d'altro canto una motivazione numerica di un voto di un giudizio valutativo proprio una motivazione misera se vogliamo è una motivazione proprio stringata semplice semplice però questo non mette in discussione in sé l'esito come dire della valutazione cioè non significa che la valutazione sia stata resa male sia stata effettuata in maniera scorretta ma che la motivazione è proprio contenuta eppure quella va bene e ribatto a quello che ha detto l'avvocato De Pretis il problema che lei pone in evidenza è quello della garanzia di ciò che di ciò che ci diciamo di cosa ci garantisce che il giudizio sia stato poi successivamente esposto indicato in maniera corretta ma questo è un problema diverso cioè è un problema che incide sulla come dire correttezza della dimostrazione della ragione che presiede ad una decisione di fiducia potremmo dire quasi nella correttezza dell'amministrazione ma è un profilo diverso stiamo attenti cioè è questo il discorso noi stiamo sempre parlando di esercizio di poteri siamo qua e io devo essere cioè io devo poterlo controllare ma non è tutelata diciamo lo strumento non garantisce però il risultato a cui si amisce io non credo quello che dice motivato bene deciso bene motivato male deciso male assolutamente no per me non è così però la motivazione serve per poter esercitare il controllo sul potere e se quella motivazione manca viene meno la possibilità del controllo e secondo me questo inficia l'esercizio del potere allora non dovrebbe poter essere più esercitato perché sbagliato all'inizio è sbagliato sempre no però però se quel potere dove essere per esempio esercitato in quel momento per esempio se c'è una decadenza perché può essere no vabbè sono mille le possibilità e comunque la motivazione in quel momento potrebbe essere diversa da quella che ci sarà in un momento successivo perché le cose cambiano no dic cioè però è giusto è giusto giustamente ogni caso è diverso io posso capisco perfettamente anche il giudice che si pone il problema anzi il giudice coscienzioso non può non porselo il problema anche di vedere se è possibile integrare o non integrare però i casi sono tanti e ripeto per me cioè io la vedo giustamente anche da avvocato per me è fondamentale la possibilità di poter controllare il corretto esercizio e il potere cioè per me è una cosa come dire imprescindibile in uno stato di diritto e quindi la motivazione sicuramente è un presidio forte c'era l'avvocato Bigolaro che forse c'era l'intervento l'intervento dottor Nasini che evidenzia come il tema e ci faccio riflettere su qual è l'atteggiamento dei giudici e qual è l'atteggiamento degli avvocati qual è il ruolo cioè per quanto riguarda i giudici dipende abbiamo detto che parlare di motivazione bovopostuma significa parlare di più cose diverse se stiamo parlando di un'attività amministrativa in cui i contenuti sono vincolati 21 octies forse non è motivazione postuma ma in ogni caso è un potere d'ufficio del giudice ritenere che sia palese che i contenuti non potevano essere diversi quindi quello è una cosa che il giudice può fare d'ufficio se stiamo parlando di una motivazione implicita cioè una motivazione non espressa ma in cui è chiaro che il provvedimento amministrativo si basa su certi presupposti non esplicitati ma esistenti non è una motivazione postuma ed è chiaro che il giudice può d'ufficio rilevare che esiste una motivazione se stiamo parlando di una motivazione di una integrazione motivazionale postuma vera e propria allora il giudice non può muoversi d'ufficio evidentemente e anche c'è un problema di fondo perché non è la stessa cosa se la motivazione interviene prima o dopo perché se interviene dopo interviene quando già c'è un provvedimento non hai la prova che sarebbe stato lo stesso quel provvedimento anche se la motivazione fosse stata fatta prima è una cosa che appare evidente non è la stessa cosa se la motivazione è prima o dopo un po' perché conosci le argomentazioni avversali ma un po' perché sei già in una logica di dover difendere quello che hai fatto gli avvocati gli avvocati evidentemente contribuiscono a consigliare le amministrazioni ecco quindi contribuiscono non soltanto a un'assistenza che si manifesta nella difesa in giudizio ma anche contribuiscono all'esercizio del potere amministrativo quello che è inesauribile come si diceva quindi possono non formalmente però possono sostanzialmente dare dei consigli su come integrare la motivazione o intervenire con gli atti processuali anzi se vengono coinvolti prima fanno i provvedimenti se vengono coinvolti dopo e la situazione non si presta neanche a essere sanata con una integrazione motivazionale consigliano l'autotutela questo c'entra con la procura dell'ITEM non lo so però certamente c'entra con il ruolo degli avvocati che fanno diritto amministrativo che sono molto diversi dagli avvocati dagli altri settori perché hai a che fare con delle amministrazioni che perseguono un interesse pubblico un interesse pubblico concreto che è il frutto di un rapporto tra gli interessi privati in gioco e gli interessi pubblici in gioco e quindi è ineliminabile il fatto che l'avvocato che difende un'amministrazione che sia interno o esterno non cambia è in qualche modo implicato nel perseguimento dell'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione ha un ruolo diverso dall'avvocato pure semplice degli altri settori questo almeno lo percepisco come cosa che sento il giudice il giudice ecco abbiamo fatto un incontro raccontavo prima qualcuno con una psicologa che spiegava le tecniche di decisione di conduzione dell'udienza sono delle cose anche divertenti poi non lo so però il meccanismo vero è quello per cui il giudice prima decide e dopo giustifica ciò che decide non proprio così sto sintetizzando e brutalizzando però nel cervello umano l'emotività non può essere soppressa c'è una componente di razionalità più o meno prevalente ma è un cervello fatto a più strati c'è il cervello del rettile poi c'è il cervello sociale poi c'è il cervello razionale e quindi dei messaggi arrivano direttamente dal cervello del rettile in ciascuno di noi allora quello che voglio dire è che è giusto siccome non siamo macchine è giusto che si tenti di dare ragione a chi ha ragione che era quello che diceva prima la dottoressa Zonno quindi è una questione di misura ma è ineliminabile questa tendenza nell'animo umano a porsi cercando di capire chi ha ragione anche su questa tematica così tecnica della motivazione postuma integrazione motivazionale postuma in realtà il giudice si trova di fronte a un problema sostanziale che probabilmente arriva prima al suo cervello perché la migdala risponde prima dei lobby prefrontali e quelle cose che ci raccontava la psicologa per cui prima si cerca di capire se ha ragione l'una o l'altra parte e poi si valuterà la possibilità di ammettere una motivazione postuma oppure no posso dire una parola allora non vorrei esprimere la mia opinione personale perché siamo casualmente in otto magistrati qui oggi e probabilmente ognuno di noi ha la sua posizione personale siamo otto si perché se consideri tutti siamo otto volevo però cercare di fare un sunto di tutto quello che è uscito oggi e di di raccontarvi come sono arrivata a costruire la mia posizione di fronte a questa problematica della motivazione postuma e richiamando due concetti fondamentali uno è quello della valutazione caso per caso e il secondo è quello dell'interesse meritevole di tutela nell'ordinamento mi spiego meglio sul punto si sono espressi sia la corte costituzionale che la corte di giustizia e ci hanno dato soprattutto la corte di giustizia la corte costituzionale ci ha detto che il vizio di motivazione è un vizio sostanziale non formale innanzitutto e poi dopo lì possiamo discutere non voglio riaprire la discussione la corte di giustizia invece ci dice che è un problema dell'ordinamento italiano naturalmente che non è un problema comunitario ma ci dice ogni ordinamento ha la possibilità di disciplinare autonomamente questo profilo tenendo conto sostanzialmente che deve essere valutata l'ammissibilità dell'integrazione della motivazione alla luce del interesse che viene fatto valere e del caso concreto quindi io credo che la composizione di tutto quello che ci siamo detti oggi sia tenere conto che ogni situazione è diversa dall'altra e quindi è diverso che sia l'attività vincolata o che sia un'attività non vincolata che l'interesse sia pretensivo o che sia positivo va valutata caso per caso nella specificità anche rispetto alle motivazioni che vengono fornite dall'amministrazione stessa e quindi bisogna entrare nel concreto per accertare se effettivamente l'amministrazione ci sta dimostrando che la decisione non potrebbe essere diversa da quella che ha preso comunque sia anche di fronte alla motivazione e poi bisogna tenere conto con riferimento a quello che diceva il collega che il fatto di ottenere una vittoria di pirro quindi l'annullamento del provvedimento solo per il difetto di motivazione non per un vizio sostanziale può avere comunque un interesse per il privato per il ricorrente perché il ricorrente può anche avere il mero interesse a procrastinare la definitività dell'azione della pubblica amministrazione ma siamo sicuri che questo interesse sia un interesse meritevole di tutela nel nostro ordinamento secondo me no perché un intervento semplicemente un ricorso fatto solamente per ottenere il procrastinare della demolizione dell'edificio che è abusivo secondo me non è un interesse meritevole di tutela nel nostro ordinamento fermo restando che come ci dice la corte di giustizia dobbiamo sempre noi giudici assicurarci che sia garantito quel diritto di difesa che rivendicava Roberta e che diceva anche di fronte alla motivazione io devo poter interloquire sul processo che è stato seguito e quindi se il diritto di difesa è garantito nel procedimento allora forse forse dico possiamo anche ammettere che ci sia un'integrazione della motivazione nel corso del processo e arrivare quindi a una sentenza che comunque faccia salvo il provvedimento che come dicevo nel concreto non possa essere diverso alla conclusione di quel determinato specifico procedimento solo questo grazie Mara allora questo purtroppo è un dialogo che rischia di trascinarsi fino alle 10 di sera e non voglio appesantire è anche brutto rilanciare continuamente però mi obbligate a farlo dai sono pagato per questo vi ricordate quando all'inizio del dialogo ho detto c'è l'articolo 3 andiamo un po' oltre e parliamo di processo benissimo infatti quello che abbiamo fatto per due ore ma forse sarebbe istruttivo per tutti questo non altera quello che si è detto e che in larga parte mi convince ma sarebbe istruttivo per tutti andare a chiedersi che cosa sia la motivazione perché qui c'è tantissima letteratura giuridica che prende posizione poi su problemi anche legati alla psicologia e alla concezione antropomorfica dell'amministrazione allora la vicenda è questa ve la semplifico chi vuole andare vada chi vuole rimanere resti questo dialogo è finito i crediti sono presi però tu seguirò fino allora in origine quindi all'inizio del novecento si diceva che la motivazione del provvedimento laddove esistente e quant'altro fosse l'esplicazione dei motivi era tutto plasmato sulla per sfalso cioè sulla teoria del contratto nel diritto privato i motivi sono irrilevanti nel diritto pubblico lo sono e quindi bisogna spiegare perché si è deciso questa concezione si basava su un'idea antropomorfica dell'amministrazione per cui dietro l'amministrazione c'era l'organo dietro l'organo c'era la persona fisica per cui fondamentalmente la motivazione era quello che pensava il funzionario che estendeva il provvedimento questo rendeva la motivazione rilevante o irrilevante nel processo a seconda poi di del contesto direi e dell'evoluzione storica del sistema attorno ai primi anni 40 si affaccia un'idea oggettivistica della motivazione che è quella che qui ci interessa cioè qualcuno allora prima a inventare a cambiare il paradigma secondo me è stato un giudice amministrativo e poi costituzionale che era Guglielmo però chi ha teorizzato meglio questa idea è stato Costantino Mortati un costituzionalista che ha scritto poche cose di amministrativo però fondamentali Mortati la cui tesi va presa ovviamente con beneficio di inventario diceva attenzione che la motivazione non è una esplicitazione dei motivi a livello psicologico perché perché il funzionario è una persona fisica e l'amministrazione non è la persona fisica del funzionario quindi si distacca perché il provvedimento amministrativo in quanto atto dell'autorità va giustificato su un piano oggettivo qui ci avviciniamo all'idea ontologica della motivazione di cui parlava la dottoressa ma nella prospettiva di Mortati criticabile ma interessante la motivazione precedeva la decisione un po' come avviene fisicamente nella sentenza qui abbiamo prima la motivazione poi il dispositivo Mortati diceva la motivazione non è altro che quella catena è una logica di fatto si logistica che ti porta dalla legge alla decisione quella deve precedere la decisione quindi è parte consustanziale del provvedimento senza motivazione non c'è provvedimento puoi tu portarmi quella motivazione dopo che ho deciso soltanto nell'ipotesi alquanto problematica di attività rigidamente vincolata in forza in forza della quale più che di una motivazione sia in presenza di una giustificazione ma quando le cose non stanno così non puoi tanto che state attenti da quell'idea nasce anche la sconfessata ma interessante tesi per cui no motivazione no decorso del termine per impugnare il provvedimento tesi minoritaria facciamo un salto la teoria del procedimento amministrativo della funzione amministrativa tanto cara a benvenuti e quant'altro andatevi a leggere le voci dedicate al procedimento amministrativo o le monografie sul procedimento amministrativo o gli articoli sulla funzione amministrativa e quant'altro tantissime pagine dedicate all'imparzialità alla ragionevolezza alla trasparenza poi eccetera di motivazione si parla pochissimo cioè nella teoria del procedimento amministrativo in Italia non si parla adeguatamente di motivazione il dibattito fra gli anni 50 e 70 è quasi completamente assopito ci sono state delle monografie di autori poi dico minori nel senso che sono persone che poi non hanno più scritto altro tema maledetto forse che però non avevano portato grandi novità nel 77 arriva Giannini questo è importante perché Giannini vi dice quello che vi ha detto la dottoressa Zonno se vi dice che esiste una motivazione ontologica lui la chiama sostanziale che la motivazione sostanziale sta nel dossier procedimentale sta nei fatti e che l'esplicitazione dei motivi in termini verbali Giannini tra l'altro veniva da una polemica pluridecennale con mortati proprio su questi temi la motivazione è una superfetazione è una sovrastruttura quello che il giudice interessa è capire come sono andate le cose e quanto ne deriva un'idea un po' francese un po' gianniniana un po' pericolosa Nigro abbiamo citato prima Nigro è colui che ha scritto fisicamente la 241 forse non è solo ma non sua perché sarà la commissione Nigro però penso che tutto ciò che noi vediamo nella versione del 90 per la scrivania di Nigro sia passato ci sono degli articoli di Nigro in cui si dice chiaramente qual è il significato della motivazione e la motivazione è il trade union fra il procedimento e il processo deve stare alla fine del procedimento e apre il processo è quello che ha detto fondamentalmente Roberta De Pretis il problema è che quella idea lucida nelle pagine di dottrina non lo è se noi la mettiamo all'interno di una legge che si inserisce in un sistema giuridico che va in direzioni diciamo così non omogenee arrivando a dove siamo arrivati oggi però quando nella giurisprudenza amministrativa e io ho trovato sentenze si trova un profluvio di pronunce certo sono massime però l'idea è quella in cui si dice che la motivazione deve precedere e non seguire il dispositivo il provvedimento non mi ricordo e quindi non si può integrare non so se mi confermate io non so come quella formuletta è applicata ai vari casi però so che quella formula ricorre tantissimo nei massimari si dice questo cioè che la motivazione non può essere postuma perché è una dimostrazione logica antecedente e quindi fa parte di un certo tipo di ragionamento tanto che qui arriva la psicologia questo è interessante ci porterebbe troppo lontano purtroppo siamo registrati era diritto del lavoro il concorso che ha portato se fosse stato diritto amministrativo secondo me non saremmo arrivati a quello perché gli amministrativisti che conoscono la materia sanno benissimo che io posso decidere in una maniera del tutto irrazionale e quant'altro se fra qualche giorno mi chiamate per stendere una motivazione che stia in piedi o chiamate qualcuno dei presenti ovviamente saremmo tutti in grado di giustificare a posteriori dando un'armatura concettuale perfetta ad una decisione che è partita ovviamente non posso fare esempi perché non so se c'è qualche procuratore della Repubblica poi siamo ripresi e anche perché non so nulla ma non è così lontana dal vero l'idea per cui si decide in un certo modo tanto una motivazione e poi la trovi e questo è psicologico tanto che ci sono dei libri di psicologia molto interessanti e anche di epistemologia giuridica quelli utilizzati da Antonio Romano Tassone negli anni 80 quando scrisse la monografia sulla motivazione e il sindacato di legittimità che è un caposaldo della materia che ci dicono che il cosiddetto context of justification cioè il contesto della giustificazione se è troppo separato da quello della decisione è fallace ma lo è proprio a livello non so gnoseologico epistemologico e lo sappiamo tutti perché se qualcuno mi telefona e mi dice questa sera vieni a cena no non ho tempo perché io non voglio andare a cena e domani mattina incontro la persona per strada e mi chiede ma perché non sei venuto è perché avevo mal di testa avevo un impegno dovevo lavorare dovevo finire i dialoghi di diritto amministrativo che si sono protratti avrò sempre la capacità di alterare la decisione certo il risultato io questa cosa non riesco a trovare pace cioè l'effetto di questa tesi e di questa teoria qual è? quale? la mia della motivazione posta cioè portandola alle estreme conseguenze si dovrebbe dire che l'amministrazione non può più decidere no allora diciamo che la lettura la lettura conseguenziale che non è detto sia ottimale perché qui si apre il vero dibattito che però riserviamo dopo la lettura conseguenziale è quella per cui allora io le dico cosa ho scritto e quindi cosa mi inchioda finché non scriverò il contrario allora la mia tesi è che la motivazione sia un elemento essenziale del provvedimento e che proprio fuori dai denti se c'è il difetto di motivazione si deve avere il coraggio di dire che l'atto è nullo se non si crede a questo per tutta una serie di ragioni logiche è una violazione di legge ma è una violazione di forme sostanziali non formali perché colpisce perché il provvedimento è la sineddoche di decisione motivata quindi la motivazione è importante quanto il dispositivo per cui se manca la motivazione è come se mancasse il dispositivo deve venire giù tutto cosa fa il giudice? il giudice annulla l'atto per difetto di motivazione ridecide e a quel punto vedremo ridecide e ci vediamo o di fronte a un altro diciamo lo stesso giudice comunque ci rivediamo o in un altro processo oppure lì si riapre la partita ma purtroppo ecco bravo microfono però perché vinci autonoma di Bolzano ecco sostanzialmente l'amministrazione pubblica io la vedo come una parte imparziale come una parte un po' sui generis perché tutela come diceva correttamente l'avvocato l'interesse pubblico la cura in concreto dell'interesse pubblico frase bellissima da manuale di diritto amministrativo che abbiamo letto più volte però adesso ne parliamo della motivazione postuma poniamo il caso che presuppone un provvedimento espresso che sia adeguatamente motivato poi il contenuto della motivazione ovviamente è libero perché non è scritto nessuna parte se non negli scarni principi contenuti nella disposizione della 241 del 90 il caso del provvedimento di un silenzio assenso o di un silenzio di niego in quel caso la motivazione dov'è? è implicita quindi l'atto di eventuale motivazione postuma se così si può chiamare o l'atto con cui l'amministrazione giustifica a posteriori la sua scelta a natura dichiarativa di una motivazione che ha dato luogo all'intervento del silenzio assenso di niego o rigetto come si so dire in dottrina ecco quindi sostanzialmente il classico caso cosa fa un giudice allora diciamo c'è il difetto di motivazione nel silenzio assenso o nel silenzio di niego chiedo diciamo ai numerosi magistrati ecco io sono d'accordo è la dimostrazione che la motivazione secondo me che sono modestissima che la motivazione non è un elemento essenziale ma no io l'ho sostenuto perché era tesi minoritarie secondo me non è un elemento essenziale dell'atto essenziale è un requisito che deve essere che è previsto dalla legge ma altrimenti noi arriveremo a dire che se non c'è la motivazione l'atto è nullo lo bisogna ai 180 giorni adesso che stiamo tornando sulla motivazione volevo dire una cosa visto che non mi capiterebbe mai più di parlare a 8 magistrati tutti insieme un appello finale che è questo guardate che la motivazione le amministrazioni si sono evolute negli ultimi 30 anni è raro che non ci sia come giustamente diceva il professor Cassatella un'amministrazione le amministrazioni sono sempre più avvedute una motivazione la fanno comunque è il compito dei giudici poter capire se una motivazione è apparente soltanto formale è un adempimento formale e nient'altro o davvero sorregge il contenuto di un provvedimento ecco solo questo ma per questo noi dobbiamo andare alla sostanza secondo me cioè il nostro compito è proprio quello di come dire vagliare la motivazione nella sua sostanzialità e dire all'amministrazione in sede conformativa guarda hai sbagliato questa cosa non la puoi fare oppure questa cosa l'hai fatta l'hai fatta bene a prescindere da come hai motivato è ben fatta perché l'effettività della tutela secondo me passa proprio attraverso questo ragionamento questa funzione della giustizia amministrativa cioè stabilire chi ha torto e chi ha ragione che è una cosa che poi con la motivazione secondo me ha poco a che fare perché va appunto alla sostanza del rapporto e quindi diciamo consente a quel punto di sporcarsi le mani scusate non uso questo termine e di chiarire quali sono gli elementi fondamentali a cui si deve attenere quella la decisione di quella fattispecie secondo me è il nostro mandato fondamentale la mia opinione bene no no ringrazio per ovviamente non posso che condividere oltretutto con captazio benevolenza nei confronti del giudice amministrativo e che spero che abbia sempre una sensibilità a favore dell'interesse pubblico e quindi bene non abbiamo altro da integrare casomai grazie